Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato e stanno ormai diventato se... Sono molto contento, allora va bene, giro così e arrivo. Allora vogliamo preparare una cosa in cucina? Gerden Oddi! Benvenuto a Compila Quindiba. Ecco, non era una cosa accidentale, il microfono aperto. Volevo sperimentare. Ciao Vision, buonasera. In prima fila da le 21, è così... In effetti non ho fatto molti annunci perché non ho potuto... Faccio riflesso con gli occhiali. Non ho avuto molto tempo, causa lavoro e quindi ho detto vabbè stasera Andiamo così, andiamo all'alpina senza preavvisi, tanto che ormai ci ha abituato, ci ha abituato e quindi, come dire... Così cavalchiamo l'abitudine. Chiudiamo un po' di cose. Stasera ho messo una musica chill perché visto che... Adesso l'abbasso molto anche perché ho ricevuto delle rimostranze sulla musica... No, vabbè effettivamente magari a volte ci sovrapponno un po' alla voce ma adesso ho cercato un po' di amplificare così si dovrebbe sentire... Si dovrebbe sentire bene in ogni caso. Devo fare un po' di barba eh, che forse è anche ora ma vabbè... Che mi dà prurito. A me la barba non viene mai come quelle che hanno tutti e... Ma... Però mi dà un fastidio e quindi... Ehm... Come va? Eh, sono giorni un po'... Sembra che prima di Pasqua finisca il mondo e quindi... Bisogna un po' tirare in questi giorni ma... E per fortuna dopo passato Pasqua il mondo è finito e quindi si torna ai ritmi, vabbè, non normali, non bassi ma comunque... Sempre dei ritmi abbastanza... Abbastanza powerful. Ehm... Ok, qua ho chiuso tutto. Così... Anche stasera ci facciamo una liveettina. Era un po'... Era un po' come dire... Ho dovuto per un impegno di domani spostare la palestra e quindi fare la live la stessa sera della palestra è una cosa... È una cosa un po' difficoltosa perché ci arrivo provato proprio. Perché per me non è un piacere, è come una visita medica, è come un... È come una terapia, ecco, andare in palestra e quindi... Siccome sto sempre seduto, almeno un'ora di... Di movimento per tre volte alla settimana bisogna farla. Quindi cerco di rimanere, come dire... Di rimanere assiduo, almeno per... In realtà ho chiesto, ho detto, ma... Devo continuare? Oppure c'è possibilità che invece che tre volte io riesca... Mi hanno stoppato e mi hanno detto, ma guarda, se tu... Vuoi provare, mi dice che vuoi provare, puoi anche provare le quattro. Ho detto, no, ma io veramente voglio diminuire. Non volevo aumentare. E quindi... Non volevo aumentare, onestamente. Quindi... Questo è poco ma sicuro, perché ne ho già abbastanza delle... Vabbè, stasera ho tirato una marea di elastici, ma per fortuna... Per il momento, per questa settimana, mi sono schivato i barpees ancora. Quindi viaggio ancora bene, quindi sono ancora fortunato da questo punto di vista. Io li detesto, cioè... Pare che ho preso un orologino nuovo che mi monitorizza. Quindi l'altra sera, secondo me, mi stava segnalando un principio di infarto, ma... C'era una gradazione, c'era un indicatore che ti dice quando sei a riposo, fascia bruciagrassi, fascia resistenza, fascia... E quindi mi ha detto, stai per arrivare al tuo limite per la tua età, è meglio che spingi poco, ma... Vabbè, era per testare l'orologio, quindi ho rischiato di rimanerci nel tentativo di... Di vedere fino a che punto poteva arrivare l'orologio, però, secondo me, ci mollavo prima io dell'orologio, comunque. Vabbè, allora, che vediamo stasera? Stasera continuiamo e si spera, spero, terminiamo l'argomento della volta scorsa. Abbiamo iniziato a vedere un po' di programmazione oggetti molto molto spicciola, molto spicciola, come si può dire. E quindi, questa sera proseguiamo il percorso che abbiamo iniziato. Siamo partiti un po' dalle classi, abbiamo visto come metterci dei campi all'interno, quindi salvarci delle informazioni. Come proteggerle tramite le visibilità pubbliche, private. Abbiamo visto come creare delle proprietà, in modo da avere l'idea di leggere e scrivere quello che è una variabile, un campo. Ma, in realtà, quello che poi andiamo a impostare, fondamentalmente, è un valore che viene letto e scritto tramite funzioni. Cioè, letto e scritto direttamente o da un campo, o comunque tramite una funzione. È una procedura, nel caso dell'impostazione, che consente, quantomeno, di controllare il valore. Quindi abbiamo messo giù qualche classe a livello, per rappresentare un rettangolo. Cioè, abbiamo messo un po' di funzioni, calcolo dell'area, altezza, larghezza. Abbiamo sperimentato, con linguaggio, con i delfi, questa cosa. Stasera proseguiamo questa cosa. Quindi, adesso, io stavo pensando se avevo delle news da comunicare, ma, al momento, grosse news non ci sono, direi. Quindi, sto guardando. Ah, ok, tutto a posto. Ok. Grosse news non ci sono, quindi, da questo punto di vista, partirei. Ho avviato già Delphi, quindi ho già Delphi pronto all'uso, come si suol dire. Ho anche, ok, il telefono, così, è caricato il telefono. Spero che la musica non dia da fare, ma non dovrebbe, visto che è anche molto chill. Però la sto tenendo molto bassa, quindi non penso che darà fastidio questa volta. Amplificate il microfono, quindi ci dovremmo stare. Allora, mi sposto le cose, in modo da poter avere il mio spazio sul desktop. Well, qui abbiamo già Delphi operativo. Operatives. Stasera mi sembra anche di essere meno saturato nella camera. Allora, poi per ogni evenienza ho la mia, mia paperella del debugging, che mi aiuta a fare, mia paperella del debugging, mi aiuta a fare il debugging. Non so se sapete come funziona la paperella di gomma. E quando voi avete un problema, prendete la paperella e glielo spiegate. Mentre ho spiegato la paperella, capite automaticamente qual è il bug, qual è la cosa che non riuscivate a risolvere e automaticamente avete... Quindi vi aiuta in questo senso, per cui... Ok, qui ci sono un po' di progetti, di prove, perché stavo sperimentando un database che poi... Per una proposta che mi piacerebbe fare, per una conferenza che già sapete. Quindi ve l'ho già parlato la settimana scorsa, non ve la ridico questa settimana. Andiamo avanti a pieno ritmo e quindi torniamo al nostro rettangolo. Vediamo come l'avevamo fatto. Sì, avevamo messo un po' di move down, move right. Avevamo aggiunto altezza e larghezza come proprietà. Quindi come valori che possiamo leggere e scrivere direttamente. C'era questo button che creava due rettangoli e se li manipolava un po', poi andava a distruggerli alla fine. Abbiamo anche provato che se non c'è questa free, chiaramente la memoria non viene rilasciata. Quindi dobbiamo ricordarci che quando abbiamo classi che definiscono un comportamento di un oggetto, ne possiamo creare quanti ne vogliamo, che funzionino in tutto lo stesso modo. Noi stiamo creando in un'area di memoria questa struttura per rappresentare il rettangolo, in questo caso, con cui vogliamo lavorare. Qui ci finisce un valore che ci permette di andare a manipolarlo, come vedete, a cambiare altezza e larghezza delle proprietà, chiamare i metodi. Quindi ecco qui, per la sintassi del Pascal non è obbligatorio. Oggi tra l'altro ho sentito un termine che non sentivo da tempo, mandatorio. Quindi non è mandatorio. Anche quando sono in live, ci sono dei glitch grafici che normalmente non riscontro. Si vede che è la scheda grafica che viene un po' impegnata. Questa quindi è una chiamata funzione in molti linguaggi, dovete mettere per forza le parentesi. In Pascal in realtà no. Però se può essere utile per, come in questo caso, a meno che non ci siano dei parametri, se può essere utile per qualificare meglio che si tratta di una chiamata funzione, io, come dire, può essere che per chiarezza, può essere che sia consigliato metterli. Ecco, da questo punto di vista non sono un obbligo. In questo caso sono un obbligo perché abbiamo dei parametri, così come in alcuni casi. Quindi anche questo che un costruttore sempre un metodo è. Quindi se volete adottare un po' di... Al mio consiglio è sempre adottare uno standard di convenzione che sia quello. E così, diciamo, il codice appare uniforme un po' dappertutto. Quindi queste sono proprietà. Questo in realtà è vero che è il nome che poi dà il suggerimento che si tratti di una funzione. Ecco, qui forse affatica anche un po' l'occhio. Però effettivamente ci sta che poi potete formatare il codice anche come volete. Se volete renderlo più chiaro, andare a capo. Ecco, dal punto di vista del Pascal, a differenza di Python e altri linguaggi, come per altri linguaggi ci sono... Ecco, forse mi piaceva più prima, Però è sempre per dare l'idea che, insomma, io adotto uno stile, però non è detto che il mio debba essere, come dire, quello adottato anche da voi. L'importante all'interno del... Soprattutto se c'è un team di sviluppo è mantenere una coerenza. Quindi proprietà, chiamato un po' di metodi che vanno poi a alterare le proprietà e ne cambiano lo stato. Una cosa carina che sarebbe da aggiungere potrebbe essere quella di disegnare questo rettangolo da qualche parte. Questo è un espediente che ci permette anche di vedere qualcosa di più, soprattutto che in questo caso, nello specifico di Windows, ma vale anche per altre piattaforme, e come potremmo disegnare la nostra figura in maniera visuale. Cioè, questi due rettangoli che noi troviamo... In realtà, ecco, qui forse potremmo fare qualche miglioria in più nel nostro programma. Cioè, potremmo dire... Magari il nostro button click potrebbe andare a configurare dei rettangoli e potremmo aggiungerli invece che usare delle variabili in questo modo. Siccome potremmo crearne virtualmente anche n, potremmo andare a creare una lista di rettangoli in cui, come dire, fare la visualizzazione. Ecco, diciamo che andiamo un attimo per step, però quello che dico è che noi potremmo prevedere qui nel nostro form, tralasciato questi che ovviamente sono cose che l'IDE inserisce per, come dire, dichiarare, in questo caso il pulsante che crea il nostro rettangolo e l'evento che gestisce, possiamo fare un'area private e quindi dichiarare dei campi. Ad esempio, potremmo dire rectangles, ok, rettangoli. Qui potremmo usare una classe che è la object list, me la segnala come errore perché la unit che dobbiamo includere, c'è una unit containers che contiene da tempo una classe object list, ma noi utilizziamo quella di generics collection perché i generics si consentono di indicare il tipo di oggetti che finiscono all'interno di questa lista. Quindi noi abbiamo la list, ok, abbiamo la lista generica, abbiamo anche l'object list, che cos'ha di diverso rispetto alla list normale che è fatta per contenere oggetti, perché la lista tradizionale di Davey può contenere puntatori, può contenere elementi di qualunque tipo. In questo caso, quando andiamo a crearla, possiamo crearla con un flag che fa sì che nel momento in cui noi puliamo la nostra lista, la distruggiamo, o comunque togliamo gli elementi che ci sono all'interno, la lista fa automaticamente la free, cioè va a distruggere i nostri oggetti. Quindi non dobbiamo farci un ciclo in chiusura per distruggere tutti gli oggetti che abbiamo memorizzato qui dentro. Quindi possiamo aggiungere, su qui il codice è un po' ingrandito, qui in alto, vabbè, qualcosa di abbastanza generics collection, è il nostro unit, che contiene questa object list, vedete che lui mi suggerisce object list di T, il generics è qualcosa di cui andremo a parlare in futuro. object list di T vuol dire che è una lista di oggetti che appartengono tutti a un tipo. Quale tipo? Il tipo T, cioè un tipo non definito che noi andiamo a specificare nel momento in cui creiamo la nostra object list. Quindi vuol dire che questa classe si comporta allo stesso modo, a prescindere dagli oggetti che mettiamo dentro, gli oggetti devono appartenere a un tipo che al momento è identificato da un segnaposto, che è questo T. Nel momento in cui noi diciamo che questa è una lista di rectangle, shape, ok, gli oggetti che potremmo andare ad aggiungere dovranno essere per forza di questo tipo. Per poter usare nell'interfaccia la nostra unit rectangle shape, questa unit deve spostarsi qui in alto e a questo punto possiamo utilizzare il nostro... diamo il tempo di... ho sbagliato a scriverlo, ecco, ok. Ho spostato la unit ma ancora non lo vede. Ho sbagliato a scriverlo. Ok, quindi abbiamo la nostra lista dei rettangoli, o meglio, questa come il nostro rectangle shape, anche questa è una classe. Quindi questa è una classe che rappresenta... possiamo anche andarla a vedere. Facciamo CTRL click qui sopra e lui ci porta, ci fa vedere che è una classe che può essere creata in diversi modi, con un flag che vi dice che possiede gli oggetti, vuol dire che appunto nel momento in cui noi estremiamo oggetti da questa lista e gli oggetti non appartengono più alla lista perché li animiniamo, li svuotiamo, vengono anche distrutti. Quindi è come se facesse da owner, così come la forma lo fa con i componenti, con le cose che mettiamo all'interno. Vedete che è reddita da un'altra classe, questa è una cosa di cui parleremo dopo. Qui c'è un tipo T, quindi nel momento in cui andiamo ad aggiungere degli elementi, dove stanno questi elementi? Stanno in un array che è di tipo T, quando aggiungiamo un elemento possiamo passare un valore che è di tipo T, vedete che questo tipo T viene usato un po' ovunque per indicare che fondamentalmente quando dichiariamo la lista e definiamo che T è rectangle shape, questa add che consente di aggiungere un elemento a questa lista accetterà un rectangle shape e non una stringa ad esempio, un intero. Quindi ci permette praticamente di tipizzare i generici in generale, detta così, c'è un gioco di parole, ci consente di creare delle classi dove alcuni tipi possiamo lasciargli giolli e quindi sono come dei template per creare delle classi. In questo caso la classe l'abbiamo specializzata, l'abbiamo definita, definendo come tipo rectangle shape, quindi abbiamo una variabile che potenzialmente può contenere riferimento a un oggetto di tipo object list di rectangle shape, ma non è ancora utilizzabile. Per poterlo utilizzare noi dobbiamo, alla creazione del nostro form, prendere quel campo che a questo punto, come vedete in private, alla F è esattamente uguale ai campi 8 width che abbiamo messo nel nostro rectangle shape, la nostra classe ha questi campi privati, il nostro form ha un campo privato perché deve tenere traccia delle figure che andiamo a creare all'interno e di cui, che siccome possono essere 0, 1, 2 o infinite, piuttosto che usare un array, usiamo questa lista che li può virtualmente contenere tutti. Qui l'abbiamo dichiarata, questo è il tipo, qui l'andiamo a istanziare, perché se io utilizzassi direttamente questo riferimento, facendo ad esempio add, avrei un access violation perché questa è una variabile che potenzialmente può puntare a un oggetto di questo tipo, ma per farlo io devo andare a creare, quindi devo andare a scrivere t object list di t rectangle shape.create devo andare a chiamare il cosiddetto costruttore che è un metodo speciale che ha il compito di inizializzare questa classe. Io poi andrò a chiamare nello specifico questa create, noi nel nostro rettangolo non l'abbiamo definito, quindi ne abbiamo uno di default che è questo senza parametri, io nella lista ne andrò a chiamare uno specifico che mi permette fondamentalmente di indicare qui un true per dirgli che gestisce anche gli oggetti e quindi non dobbiamo ciclare alla fine la nostra lista per distruggere gli oggetti. Qui è la creazione, ovviamente oltre alla creazione tra gli eventi abbiamo anche la sua distruzione, potremmo ridefinire il costruttore, ma voglio come dire lasciarlo così. quindi abbiamo la nostra create, quindi in fase di distruzione ci basterà fare una free della lista. La free della lista, se andiamo a vedere che cosa fa la free, in realtà la free chiama destroy, quindi verrà richiamato il destroy di questa object list. il destroy cosa fa? Va a vedere e dice inherited, e quindi bisogna andare a vedere nella classe da cui eredita quello che... quindi questa è un'implementazione che probabilmente viene da... eh, dobbiamo andare ancora più a più l'interno, niente, lasciamo un attimo da parte che non volevo come dire, creare scompiglio. Questa free di rettangoli andrà a distruggere anche tutti gli oggetti di cui contiene i riferimenti che sono riferimenti appunto a rettangoli. Quindi, grosso modo, cosa potremmo fare? potremmo qui invece che usare queste variabili r1, r2 potremmo potremmo utilizzare lo stesso. Questo è vero. Però, ecco, potremmo scrivere var r1 e mettere questa r1 tra i nostri rettangoli. Ok. Facciamo così. Chiamiamola rectangle t rectangle shape Ok. Quindi così qui potremmo andare come dire a creare il nostro rettangolo. Rettangolo. Ok. Lo andiamo ad aggiungere alla nostra lista. Poi qui possiamo visualizzarlo. Però ecco, adesso questo che diventa un po' fastidioso magari lo commento così non ci rompe più le scatole. Cioè, lo possiamo fare in un altro modo. Qui cosa andiamo a fare? Non metto le free perché le sto aggiungendo una lista. Qui uso la stessa variabile per creare un nuovo rettangolo e poi di nuovo vado nella mia object list e gli dico gli aggiungo questo rettangolo. Quindi ho usato una variabile sola con cui creo un rettangolo lo configuro lo metto nella mia lista ne creo un altro mettendo riferimento nella stessa variabile quindi il riferimento al precedente va perso qui ma io l'ho salvato dentro la mia lista. Quindi sto creando uno nuovo e metto qui il riferimento qui lo possiamo andare a impostare magari anche questo in mettiamolo un po' più spostato 40 rettangolo y mettiamoci un 80 così facciamo nell'ottica di andarla a visualizzare quindi la variabile ha cambiato valore sta puntando un altro rettangolo il precedente riferimento l'abbiamo perso ma l'abbiamo messo nella lista quindi in realtà se noi andiamo in questa lista e numeriamo quello che c'è dentro troviamo ancora i nostri rettangoli questo lo faccio più più largo che lungo così 400 niente move down niente scale lo metto lo metto lì quindi in questa lista abbiamo i nostri rettangoli come potremmo visualizzare quindi di nuovo object list è una lista che contiene però specificatamente oggetti quindi non interi non valori di altri tipi ma oggetti che appartengono devono appartenere tutti al tipo che indico qui quindi questa l'ho dichiarata non è una variabile ma è un campo del form vuol dire che quando verrà creato il mio main form se vado a vedere dove viene creato nel programma principale project view source c'è una variabile main form e questa application create form prende la classe ne crea un'istanza quindi mi porta in vita un oggetto che è la mia main form e mette il riferimento in questa variabile che noi abbiamo spostato qui e che noi non utilizziamo mai direttamente perché è meglio così quindi creando questo oggetto si crea questo campo con questa lista quindi viene allocato spazio in memoria per poter contenere un riferimento a una lista di oggetti rettangoli però ancora la lista non c'è per crearla dobbiamo fare create chiamare il costruttore qui mantengo qui mi sono dimenticato di scriverci true per la non tree true per valorizzare questo owns object in modo che la lista sia configurata per possedere anche gli oggetti vuol dire che quando faccio free se contiene riferimenti a dei rettangoli cicla distrugge tutto e alla fine la lista viene distrutta quindi non dovremmo avere dei memory leak poi cosa faccio mi faccio una variabile ecco questa l'ho dichiarata qui però ecco per abitudine siccome adesso Delphi lo supporta già da qualche versione potete dichiararla anche in line cioè non nella sezione prima del begin ma direttamente qui potete dire creo la variabile e non vado a indicare di che tipo è posso scrivere una cosa così ma posso anche ometterla quindi non dandogli il tipo il tipo di questa variabile non è diciamo jolly non è un un oggetto generico non può assumere qualunque valore ma prende il valore dell'espressione che metto a destra quindi qui sto chiamando il costruttore di rectangle shape vuol dire che questa variabile sarà di tipo ce la vado a vedere qui rectangle shape vuol dire non ti do il tipo però il tuo tipo diventa il tipo che viene restituito da questo valore qui sto creando rectangle shape questo è il tipo rectangle shape e quindi vedo tutte le proprietà perché appunto questo è e quindi non è una stringa non può cambiare tipo durante durante il come dire la routine ma deve rimanere è una variabile locale quindi uscendo di qui perderemo questa variabile verrà rimossa dentro c'è un riferimento a un rettangolo che viene configurato e quel riferimento viene copiato dentro la lista quindi questa variabile contiene un valore che consente di arrivare a quel rettangolo che viene salvato dentro la lista poi ne creo un altro perdo questo riferimento ne acquisisco uno nuovo non lo perdo in realtà perché si trova qua dentro configuro un altro rettangolo e lo aggiungo alla lista quindi nel momento in cui noi partiamo abbiamo questa lista di rettangoli che sono già istanziati proviamo a rappresentarli a video così vediamo anche qualcosa di un po' interattivo come potremmo fare potremmo mettere qui un componente ad hoc fatto che esiste sia per Windows ma esiste anche per gli altri framework che permette di disegnare oggetti a video il componente si chiama Paintbox ne abbiamo anche una basata su Schia che ricordo è la libreria su cui si basa alcuni componenti della VCL che è la libreria che stiamo usando ma anche di Farmocchi che è la libreria cross platform che c'è in Delphi ed è una libreria da altre prestazioni che ha tutta una serie di funzionalità per disegnare a video quindi gradienti gestione dei font l'abbiamo vista in altre live c'è anche una live che avevo fatto tempo dietro l'abbiamo usata per generare dei pdf abbiamo animato gli sticker stile telegram formato telegram quindi abbiamo come dire queste robe qui però noi per questa esigenza diciamo dobbiamo disegnare una forma geometrica ci accontentiamo della nostra Paintbox ciao Muzio ben arrivato quindi prendo la mia Paintbox doppio clic la Paintbox è un componente molto sciocco ma molto efficace che ci fornisce fondamentalmente un'area in cui noi possiamo disegnare come funziona il disegno quando io nascondo la finestra e la rendo visibile o lancio l'applicazione insomma quando questa finestra ha bisogno di rappresentare qualcosa c'è un evento che si chiama On Paint ok eccolo qua che viene eseguito e che mi consente di intercettare quel momento particolare per disegnare quello che voglio vedere a video non è un'operazione uno tanto un disegno il disegno viene fatto se io lancio il programma la finestra compare questa funzione viene chiamata per ottenere il disegno da mostrare quindi qui dentro devo disegnare quello che voglio vedere se riduco l'icona la finestra e poi la ripristino questa funzione viene rieseguita cioè finché Windows ritiene che quello che ho disegnato non sia da aggiornare non mi dice nulla ma ogni volta in cui io devo rappresentare qualcosa lo dico perché molti usano questo componente in maniera un po' più esterna cioè lo prendono e vanno a buttarci dentro dei disegni chiamando le funzioni di disegno che ci sono in Delphi che sono le stesse che usiamo nell'elemento On Paint però in Windows se io prendo questa superficie e ci butto dentro un disegno se riduco l'icona ripristino e qualcosa non va a ridisegnare quello che stavo visualizzando io non vedrò più niente cioè il disegno non è persistente il disegno deve essere riprodotto ogni volta che la finestra viene aggiornata oppure ogni volta che noi chiamiamo un refresh un update un invalidate cioè un qualcosa che dice a Windows guarda che quell'area quello che tu vedi non è ancora non è più valido questo è il meccanismo con cui generalmente i controlli quando hanno delle proprietà che influenzano l'aspetto vanno a chiamare queste API di Windows chiaramente usando delle funzioni già pronte di Delphi pronte all'uso che consentono di dire a Windows guarda che questa area va ridisegnata perché non è ottimale ridisegnarla ma dire sulla Windows va ridisegnata perché se succedono una serie di eventi che richiedono in successione che tutti richiedono che una particolare area della finestra venga ridisegnata non ha senso ridisegnarla n volte basta dire a Windows n volte che va ridisegnata Windows accumula tutte queste segnalazioni e poi fondamentalmente chiama solo una volta la routine di disegno questo è questo è per come dire nel momento in cui abbiamo delle bocce in movimento perché se noi eseguiamo un evento in cui cambiamo valori che richiedono di aggiornare la videata più volte non ha senso che ne andiamo aggiornare più volte perché così come dire sprechiamo dei cicli di CPU è comunque la cosa meno persistente quindi Windows viene continuamente avvertito di questa cosa e nel momento in cui l'evento termina quando un'area deve essere disegnata Windows manda un messaggio all'applicazione tecnicamente è il Windows message paint che poi noi non dobbiamo gestire direttamente ma ci pensa a direzionarlo a questo evento un paint quindi se noi vogliamo vedere qualcosa a video non andiamo dall'esterno a disegnare qualcosa nella paintbox ma dobbiamo istruire la paintbox tramite questo evento paint su quello che devi disegnare ogni volta che è necessario quindi prendo il disegno persistente dobbiamo metterlo qui se lo facciamo ad esempio sul button click all'interno della paintbox da fuori e non in questo evento noi lo vediamo a tutti gli effetti ma a meno che io non riclicco sul pulsante se minimizzo la finestra e la ripristino non vedo più niente se invece lo metto qui minimizzo la finestra e la ripristino Windows manda un paint un messaggio paint per dire alla paintbox guarda che non è rivisibile ora lo sai di nuovo devi ridisegnare quello che bisogna vedere vedersi a video poi questo dà luogo ad alcuni effetti collaterali ad esempio il flickering cioè se noi facciamo diversi aggiornamenti e ridisegniamo ridisegnando con delle funzioni primitive che fanno grafica 2D magari mettono delle forme una sopra l'altra la cosa viene ripetuta perché il valore cambia frequentemente un valore che va ad alterare il disegno vediamo che il disegno lampeggia perché ogni volta che c'è un ridisegno la parte viene diciamo ripulita e poi Windows va a disegnare quello che ci va sopra quindi ripulisce e un po' come uno schermo tipicamente funziona cioè che il classico schermo tubo catodico che viene aggiornato n volte al secondo quindi se noi facciamo delle foto intermedie lo vedremo come quando riprendiamo con una videocamera uno schermo vecchio lo vediamo come dire flickerare lo vediamo lampeggiare ci sono diverse tecniche per evitare una di queste non disegnare nell'home paint non disegnare nell'home paint ma disegnare su un bitmap e poi copiare la grafica che è stata disegnata su un bitmap quindi su un'immagine disegnarla sempre con questo on paint dentro il controllo cioè noi non disegniamo uno per uno gli elementi nella parte che vediamo vedendoli comparire a video ma li disegniamo offline e poi li buttiamo tutti in una botta dentro disegnati come se fosse un bitmap e questo diciamo riduce un po' occupa un po' più di memoria ma riduce un po' l'effetto di flickering e quindi la grafica perché? perché ogni disegno viene disegnato come immagine quindi come fotogramma completo e non un pezzettino alla volta una forma geometrica alla volta quindi questo effetto si riduce questo giusto per raccontarvi un po' di altre cose legate in questo caso alla programmazione Windows in particolare con Delphi quindi che andiamo a fare? andiamo a prendere questo momentum paint andiamo qui e una cosa ad esempio che non abbiamo stabilito per le nostre forme è magari un colore diverso per poterle distinguere però andiamo per gradi qui cosa possiamo fare? possiamo ciclare le nostre shape e disegnarle ad esempio con questa paint box quindi questo paint vuol dire caro applicazione bisogna che tu mi dica cosa vedere qui dentro come disegniamo? noi disegniamo con un con un oggetto che si chiama canvas letteralmente è la tela lo recuperiamo dall'oggetto paint box quindi possiamo scrivere paint box 1 ok oppure possiamo prendere questo parametro che è l'oggetto che ha che ha scatenato l'evento in questo caso è la paint box 1 però l'oggetto viene passato come parametro vedremo perché qui non c'è paint box ma c'è the object magari in un futuro quindi qui possiamo usare paint box 1 possiamo usare questo parametro andando però a tipizzarlo in qualche modo usiamo questo per il momento c'è una proprietà canvas che ci fa accedere a un oggetto che consente di disegnare all'interno di questa figura ad esempio l canvas quindi ho creato una variabile locale in cui metto riferimento a questo oggetto per evitare di scrivere continuamente paint box 1 punto canvas paint box 1 punto canvas cioè prendo il riferimento lo copio qui sappiamo che essendo un oggetto questo è un oggetto come lo facciamo a sapere andiamo a fare ctrl click vediamo come è dichiarato qui solo ridichiarato ma in realtà è sotto graphic control vediamo che c'è un campo privato canvas di tipo t canvas e qui vediamo la procedura vm paint che serve per gestire il messaggio di windows paint serve per associare questa procedura a una chiamata che viene triggerata potremmo dire dalla ricezione del messaggio paint da parte di windows questo t canvas è un oggetto perché è realizzato canvas che è realizzato da t persistente che alla fine è un t object è un oggetto tutto ciò che in ultima istanza è realizzato da t object è un oggetto quindi vuol dire che questa è una proprietà che contiene il riferimento lo stiamo solo copiando qui quindi stiamo creando diciamo la shortcut come quelli che videogiocano che cioè ci siamo creati un identificatore con lo stesso valore che c'è qui per poter manipolare quell'oggetto canvas che è metodo questo fa capire subito qual è l'utilizzo l'obiettivo di questo canvas lo vediamo subito da qui draw quindi qui possiamo disegnare a una certa coordinata graphic vuol dire che è un'immagine fondamentalmente è la classe base di risorse che sono immagini un rettangolo per simulare un focus quindi il classico rettangolo tratteggiato per far vedere che è un elemento selezionato ellissi quindi solo la forma rettangoli pieni e qui dobbiamo dare una struttura questa in questo caso è una struttura direct che rappresenta le coordinate le dimensioni del rettangolo da disegnare e poi ha tanti altri metodi text float fill cioè riempimento a una certa coordinata con un certo colore con un certo stile tipo solido con le lineette a puntini tratteggiato le solite cose che troviamo poligono curva di bezier rettangolo vuoto testo in realtà ci sono diverse funzionalità ma è un oggetto abbastanza semplice perché esistono anche altri tipi di canvas ad esempio se usiamo il canvas di schia cioè usiamo la SK Paintbox abbiamo il canvas di schia che ha molte più funzionalità ad esempio possiamo disegnare riempimenti con i gradienti testo usando gradienti per riempire il colore del testo con un font personalizzato abbiamo ovviamente possiamo trasformare deformare le immagini possiamo fare molte più più cose rispetto a quello che fa il canvas molto semplice quindi qui voglio disegnare un rettangolo andrò a fare un fill rect e qui dovrò passare questa struttura T-Rect che sono le coordinate del rettangolo questa struttura T-Rect qui vediamo il codice vedete che fondamentalmente questo canvas sta dicendo sto cambiando il disegno devo essere in un certo stato cioè il canvas deve avere un handle valido cioè deve per windows esistere poter disegnare e deve avere un pennello preimpostato questo è un controllo siccome vado a riempire un rettangolo devo aver indicato le caratteristiche del pennello cioè lo stile di riempimento e il colore in poche parole fill rect qui vediamo che va a chiamare un API di windows che ha un nome simile a questo metodo dove viene passato l'handle quindi vediamo come passare da un oggetto che fa parte della libreria delfi alla chiamata l'API di windows se noi usiamo FireMonkey in cui abbiamo un oggetto molto simile vedremo che qui abbiamo delle differenze legate al fatto che in quel caso abbiamo un'implementazione cross platform quindi avremo di vari def se siamo su windows se siamo su mac se siamo su android perché sono diverse le API da richiamare per ottenere lo stesso effetto quindi il delfi ci aiuta un po' a separarci da quella che è la piattaforma che sta sotto quindi filirect questo sempre per farvi vedere un pochino gli devo passare questo t-rect questo t-rect come è fatto è un record i record a differenza delle classi sono allocati sullo stack cioè cosa vuol dire che quando io dichiaro una variabile di questo tipo ho già un oggetto con cui lavorare sono dei tipi valori ovvero quello che c'è dentro in questo caso ci sono anche dei metodi quindi ci sono delle informazioni ad esempio le coordinate del rettangolo cioè left top quindi in alto a sinistra a destra e in basso oppure due campi quindi sono o quattro campi che sono un intero oppure due campi che sono un t-point che a sua volta è un record con x e y quindi rettangolo è una struttura con le quattro coordinate o due valori che rappresentano due coordinate dei punti che lo definiscono quindi noi dovremmo creare in qualche modo questa questa struttura in realtà abbiamo degli helper quindi quello che andiamo a fare è disegnare ogni rettangolo quindi la prima cosa da fare è fare un bel ciclo sulla nostra lista per la nostra lista possiamo usare un for in var la variabile la dichiaro direttamente qui e qui ci metto my list ci metto rettangles qui sto sfruttando una proprietà delle liste in generale o comunque degli array e di tutta una serie di strutture di dati che sono innumerabili innumerabili vuol dire che implementano del codice a cui potremmo dare anche un'occhiata ma non adesso per non ammorbare troppo che permettono di fare questo discorso fare un ciclo qui non vedete la classica variabile con valore iniziale valore finale incremento vedete una variabile che viene dichiarata con il var in la nostra object list e questo cosa fa? fa sì che questa grandezza venga numerata e ogni elemento vuol dire leggiamo il primo valore poi leggiamo il successivo e così via fino all'ultimo i nostri valori cosa saranno? saranno i riferimenti ai rettangoli che ci abbiamo messo dentro quindi al momento sono questi due rettangoli di volta in volta qui viene messo il riferimento al primo rettangolo al secondo rettangolo e così via essendo questo un object list di rettangol shape come abbiamo visto prima nella dichiarazione e nella creazione vuol dire che numerare questa lista tirerà fuori di volta in volta in questa variabile qualcosa che sarà se andiamo a vedere la nostra rettangola un rettangol shape quindi noi stiamo dicendo prendimi tutti i rettangoli partendo dal primo via via fino a che ce ne sono finché non sono esauriti e mettimi qui un riferimento al primo rettangolo secondo rettangolo in modo che all'interno di questo corpo io vada a lavorare su quel rettangolo il cui riferimento è stato copiato qui essendo questa un object list non è come dire un object list astrata ma è un object list che tra minore e maggiore noi abbiamo messo che si tratta del nostro tipo rettangolo può dire che numerarla ci dà fuori tutti i rettangoli quindi questa variabile è di tipo è il tipo che noi abbiamo segnato qui e quindi questo è il tipo della variabile quindi qui possiamo già lavorare accedere alle proprietà che noi abbiamo definito per i nostri rettangoli ad esempio chetarea eight width x e y ci interesserà ad esempio creare quel t-rect che non è è una struttura che è già in delfi però vediamo quindi è un record vuol dire che se crea una variabile di questo tipo quindi se qui scrivo var l non vorrei chiamarlo rect ma chiamiamolo paint rect quindi l'area che io vado a disegnare oppure canvas oppure shape rect non so come chiamarlo in realtà potremmo crearlo passarlo direttamente a questa funzione quindi nel momento in cui uso questo tipo e faccio create sembra un costruttore ma in realtà una variabile dichiarata di questo tipo è già un contenitore dei valori che stanno all'interno di questo t-rect il record la classe è una variabile che contiene un riferimento a qualcosa che è una struttura che viene creata quando noi facciamo create quindi rectangle shape è una classe create crea quell'oggetto e qui abbiamo riferimento se creiamo una variabile in questo caso di un tipo che è un record e non una classe abbiamo già dichiarato quella variabile conterrà già i valori che sono definiti nel tipo quindi t-rect dice t-rect è una struttura che contiene fondamentalmente se ritrovo le informazioni che vedevamo prima questa sintassi serve per occupare nello stesso spazio allocare nello stesso spazio due tipi di informazioni cioè lui dice io tengo come area di memoria tengo quattro interi o sono quattro interi disgiunti che sono le diciamo left top right bottom le coordinate diciamo x e y e la coordinata dell'angolo a destra e in basso oppure sono solo due valori che però sono dei t-point ovvero degli agglomerati di ognuno di questi è un record che contiene questi due valori quindi fondamentalmente è una zona di memoria che contiene le stesse informazioni e noi possiamo impostarla così e leggerla in questo modo quindi se noi passiamo questi quattro dati se leggiamo questo stiamo tirando fuori questa coppia e quindi ecco una variabile dichiarata di tipo t-rect alloca già questo spazio e se assegniamo una variabile all'altra noi non passiamo un puntatore ma trasferiamo questi valori quindi t-rect va usato per chiaramente valori molto molto piccolini perché altrimenti assegnare andare ad assegnare una variabile o un'altra vuol dire in questo caso assegnare in questo caso quattro interi quindi tutte queste non sono tantissimi non è così veloce ci sta che questo sia creato come struttura e non come classe perché comunque le classi devono essere istanziate devo creare gli oggetti devo tenere riferimento devo fare la free quindi hanno una sorta di over-head hanno una serie di operazioni in più legate alla loro gestione quindi questo sta a indicare che se i dati da salvare sono idealmente pochi possiamo usare questa struttura dove nel momento in cui dichiariamo questa variabile è come se avessimo già dichiarato questi valori singolarmente ma stanno tutti sotto un unico cappello diciamo quindi questo create che è un costruttore in realtà serve solo noi abbiamo una variabile che ha già i valori left top right bottom serve solo a crearlo a inizializzare quei valori a un valore iniziale quindi ci aiuta questo è un helper per aiutarci vedete che tra l'altro ha diversi overload uno ci consente di dare come dire le coordinate point i due punti in alto a sinistra in basso a destra e definisco il rettangolo oppure possiamo dargli left top right bottom come vedevamo prima quindi la x e la y del punto in alto e right bottom sono le x e la y del punto in basso a destra oppure possiamo dargli l'origine quindi un point che rappresenta x y dell'inizio e width 8 cioè la larghezza e l'altezza nell'overload ci sarà qualcosa che si calcolerà in automatico il right e il bottom in base ai valori che passiamo noi potremmo anche non ipotizzarlo andarlo anche a vedere vedete che qui questo è l'overload di t-rect che inizializza il rettangolo con i valori di prima cosa fa? prende come point quindi x e y le coordinate dell'origine in alto a sinistra prende la larghezza e l'altezza e cosa fa? crea un rettangolo dove prende l'origine x e y e inizializza right bottom con x più larghezza cioè sta a indicare che la coordinata del punto più a destra equivale alla coordinata x dell'origine in alto a sinistra più la larghezza e qui la coordinata y più l'altezza quindi però ci viene comodo come helper perché ad esempio noi abbiamo questi due e l'origine non abbiamo un point però nulla ci vieta ad esempio di metterne il nostro rettangolo se noi ci capita spesso di dover passare valori x e y che non sono disgiunti ma sono perché chiamiamo tante pi che sono raggruppate in questo t-point noi possiamo comunque continuare a gestirle in maniera separata cioè come x e y come abbiamo fatto ma potremmo crearsi nel nostro rettangolo un esempio una property origin che prende qui due valori e li assembla all'interno di una struttura t-point cioè il nostro rettangolo viene usato spesso diciamo il punto in alto a sinistra del rettangolo viene rappresentato da x e y se ci capita spesso di dover rappresentare un t-point con dentro le coordinate di questi due punti noi dobbiamo sempre fare t-point create e passagli il nostro x e la y t-point create potremmo anche dire nell'area public come abbiamo l'area ok potremmo fare una funzione get origin che crea un t-point pronto all'uso per questi due dati oppure ancora potremmo dire metto una property che chiamerò origin che è un t-point ok quindi qui dovremmo andare ovviamente a definirgli a importare la unit del nostro t-point che è system types qui non avevamo ancora importato nessuna unit quindi la nostra unit era system types ok quindi origin t-point vuol dire abbiamo una proprietà che istituisce un t-point che quando la leggiamo recupera il valore da una funzione che si chiama get origin qui mi dà errore perché questa funzione non c'è ma se noi facciamo complete classed cursor oppure ctrl shift c completiamo l'implementazione quindi non ci dà più lui cosa ha fatto ha trovato questa dichiarazione ha intuito cosa vogliamo fare ci ha messo la funzione qui nella private ce l'ha dichiarata in automatico e ci sposta automaticamente qui sotto per mettere l'implementazione e qui scriviamo che il result il valore di ritorno è un point quindi una struttura che rappresenta le coordinate di un punto che noi andiamo a creare specificando x e y e come valori di x e y ci mettiamo i nostri campi x e y quindi abbiamo fatto sì che il nostro rettangolo sia in grado di fornire quello che sembra un campo ecco qui è di solo questa è una proprietà di solo lettura cioè se io leggo questa proprietà passo dalla funzione che mi istituisce il valore se posso fare una write ok io non riesco a impostarlo perché manca la write quindi io quello che posso fare ad esempio nel nostro esempio è utilizzare quell'overload che si aspetta l'origin e larghezza e altezza che è successo vedo una notifica ma in realtà non la vedo finché non mi compare oh più bit c'è un po' di un sacco di ritardo con qua la subscription addirittura con prime quale onore quindi già lo shout out lo faccio di solito abitualmente ma in questo caso direi che che non funziona ah ok pensavo pensavo che non funzionasse buonasera ben arrivato stavamo cimentando con la la programmazione di oggetti devo creare delle dovrò ingaggiare qualcuno per fare delle emotiche avete l'idea per delle emotiche molto sciocche in realtà cioè fare lo sviluppatore scazzato lo sviluppatore cioè secondo me ci sta bene divertente per usare l'emotico però ancora non ho non ho avuto il tempo di occuparmi grazie comunque andate a a visitare anche il channel di Fubit che non vedo da un po' forse non mi collego quando streammi però probabilmente avrai un sacco di cose da fare e quindi che ha usato Delphi in passato quindi e che di recente ha fatto il gioco su Coma 64 devo andarmelo a riguardare sì ho messo la torcia un'icona in realtà un'idea che avevo era mettere i livelli delle sub con le icone di Delphi quindi usare ad esempio non abbonato l'icona di Delphi 8 che è famigerato tra gli sviluppatori Delphi Delphi 8 e la pecora nera poi Delphi 7 le icone di Delphi l'elmo sì oppure queste cose però ecco lì devo dedicare un po' di tempo per cui e purtroppo al momento ma sì sono cose divertenti come si dice però quindi che stavo dicendo non mi ricordo il bello il meme comunque di Silicon Valley guardatevi anche la serie Silicon Valley non mi ricordo se forse su Sky si può vedere on demand per chi non la conosce che è bellissima quindi per sviluppatori quella serie a parte che è molto realistica e quindi è una start up che si inventa un algoritmo di compressione e quindi ha a che fare con investimenti milionari ma ci sono dei personaggi ogni puntata è una pietra migliare quindi però c'è proprio tutti i test c'è c'è le convention ci sono delle scene veramente bellissime non l'avete mai vista in realtà mi sto guardando una serie su Sky che mi mi piace molto al momento si chiama Call My Agent una serie italiana che non diresti e invece mi diverte un sacco perché è appena uscita la seconda stagione ci sono attori italiani un po' un po' casualty la prima stagione su Prime di Silicon Valley la devo andare a vedere perché me la devo andare a vedere quindi tra l'altro mi dimentico sempre che se qualcuno non è iscritto ad altri canali col Prime volendo potete fare una una sub non perché ci monetizzi perché anzi tremo all'idea che poi mi mandi una fattura che dopo mi va tutta in tasse però più che altro non vi rompono le scatole con gli spot adesso dovrei averlo un po' rilassato è lo spot sono andato a vedere nel pannello ho ridotto perché l'avevo impostato in automatico con una cosa che ti riconosce delle percentuali maggiori facendo più spot ma onestamente cioè saranno due centesimi di euro ogni live di due ore quindi avere il 50% degli introiti mi va bene anche un centesimo non mi interessa niente perché tanto non è e quindi ho detto meglio ridurre gli spot anche perché dopo un po' rompono veramente veramente le scatole quindi il commercialista mi sgrida esatto e quindi non sgrida a me perché infatti io non ho mai raggiunto il livello per fatturarne sono contento anche perché dopo non saprei e quindi meglio così che dicevamo quindi qui per creare il nostro rettangolo che in realtà potevamo mettere anche il rettangolo ma vabbè a parte questo dobbiamo passare il punto dell'origine e poi altezza e larghezza quindi possiamo dal nostro rettangolo iesimo vediamo la proprietà che è origin che è la nostra origine vediamo la proprietà rectangle width e la proprietà rectangle height quindi mettere questa proprietà è comoda perché quando noi abbiamo determinato che il valore che restituisce è corretto cioè è vero contiene codice abbastanza banale però questo codice ripetuto dappertutto è molto più brutto da vedere rispetto al diciamo un po' troppi file aperti rispetto dal vedere questa proprietà che sappiamo già che restituisce l'origine e quindi è molto più molto molto più comoda da questo punto di vista in realtà avremmo potuto restituire anche direttamente il rect perché abbiamo questo sappiamo che per creare questa struttura rect ripeto questa è la nostra shape questo t rect è solo una struttura che c'è in delfi per rappresentare un rettangolo in termini di area area dentro una superficie quindi la nostra il nostro rettangolo è un rettangolo shape cioè le caratteristiche che rappresentano la figura del rettangolo questo identifica le coordinate dell'area in cui sta in rettangolo quello che volevo farvi vedere è che se noi proviamo a fare rettangolo origin due punti uguale siccome vuole un t point andiamo a creare un t point 0 0 qui vedremo che ci va in errore perché ci dice cannot assign a read only property perché? perché questa è di sua lettura cioè se andiamo a vedere come è fatta la proprietà se la leggiamo passiamo dalla read ma siccome non abbiamo messo una write non possiamo scriverne il valore però potremmo farlo potremmo dire faccio supporto anche la write metterà una funzione set origin ok faccio ctrl shift c e vado a completare la classe quindi qui ho dichiarato il metodo non ho messo la dichiarazione ma me l'ha me l'ha aggiunta automaticamente lui qui e mi posiziono direttamente sull'implementazione quello che viene passato sappiamo è un t point che è l'origine quindi come lo utilizziamo questo valore assegniamo a x value.x cioè questa è una struttura che contiene x e y noi tiriamo fuori questi due valori oppure avremmo potuto avere invece che x e y separati un campo di tipo t point insomma potevamo farlo esattamente come ci pareva però questo per far capire che se ogni cosa che coinvolge il rettangolo e che è un'informazione che estraete dal rettangolo e la dovete estrare più volte mettete questa implementazione nel rettangolo in modo che ogni rettangolo sia in grado di fornire questo dato e lo potete utilizzare senza dover ripetere del codice che anche se è molto semplice è meno prono ad errori perché in questo caso quindi qui facciamo un po' d'ordine via la get sta sopra 8 origin with qui abbiamo 8 origin li metto un po' in ordine alfabetico così quindi x e y in realtà dovrebbero stare qui analogamente potremmo supportare ad esempio una proprietà rect di tipo trect read get rect ok che ci dà come risultato un trect creato prendendo la mia origine che è un dato che ho già ok quindi qui potrei potrei chiamare direttamente get origin sul mio rettangolo per avere l'origine e poi devo passare la larghezza devo passare l'altezza quindi abbiamo dato al rettangolo la possibilità di restituire diciamo questo questo rect che fondamentalmente rappresenta poi il rettangolo in cui la figura è iscritta quindi questa la occupa tutta ma se noi avessimo ad esempio un cerchio sarebbe sarebbe se avessimo un cerchio questo rect sarebbe qualcosa che ci dà il rettangolo in cui il cerchio è iscritto ecco vediamo è l'area in cui noi andiamo a disegnare poi ci sarà uno spazio trasparente un altro spazio ecco questa proprietà di nuovo dov'è che torna comoda torna comoda nel nostro form perché così qui possiamo semplificare ulteriormente il nostro codice cioè potremmo dire invece che creare l'origin potremmo leggerlo adesso vedete che non dà più errore è chiaro che se ho questa x 10 10 e gli assegno questo 0 0 verrà creato il set origin che andrà a impostare x e y a quel valore quindi le coordinate diventeranno 0 0 però ecco abbiamo lasciato abbiamo fatto che il rettangolo si possa leggere e scrivere usando le coordinate direttamente le larghezze di trattamento oppure dei tipi che raggruppano più valori assieme che non sono quelli che noi utilizziamo dentro la figura ma buonasera a tutti benvenuto Jax 23 dev non so se eri già passato da questo canale benvenuto o benvenuta bene dal scontato che sia benvenuto perché però non vorrei mai sbagliarmi non riesco mai a leggere il testo di questa notifica pare che non mi compare per secondo me mi sono tagliato il testo del poi mi arrivano in chat le notifiche a rallentatore fa un po' fa un po' di fa un po' di bizze questo questo ciao Panspinning anche no noi ci siamo già conosciuti in realtà perché abbiamo non già venuto fatto forse un ride sul canale quindi stasera stiamo sulla programmazione di oggetti quindi molto molto basic in questo caso in realtà quindi grazie alla cosa che abbiamo benvenuti buonasera a tutti ben arrivate a tutti grazie a questa cosa possiamo come dire chiamare questo finirect direttamente qui dove ci chiede qual è il rettangolo da riempire noi andiamo sul nostro la nostra figura rettangolo facciamo la proprietà rect che ci dà il rettangolo in cui la figura è iscritta e lo usiamo per riempire direttamente questo questo rettangolo canvas dobbiamo impostare il pennello che è il brush come style del pennello mettiamo il brush style solid quindi riempimento a tinta unita non che ce ne siano tante altre con questo tipo di canvas perché non ha molte cioè fa solo fa vabbè come dire quelli con le linette fa i puntini ma non è che faccia invece il canvas ad esempio 2D che c'è in FireMonkey oppure anche il canvas di Schia è molto più potente perché ha tutte le lineare il gradiente lineare il gradiente radiale con due punti di stop con due colori tre colori cioè tutte le percentuali dove inizia un colore finisce l'altro insomma è molto più molto più raffinato qui siamo abbastanza mettiamogli un non mi ricordo t alfa no aspetta qual è la costante t color dovrebbe essere t colors ci dovrebbe essere una costante con un po' di colori preimpostati ma non mi ricordo dov'è c'è un po' che non eh ah ok manca manca la unit ok system UI types non mi ricordavo la unit perfetto quindi possiamo metterla qui uses system UI types in tipi per la UI questi sono tutti colori di sistema quindi delle costanti che fanno scegliere ad esempio il colore di evidenziazione di quel momento però abbiamo anche tutta questa palette di roba facciamoli midnight blue così riusciamo a vederli ecco al momento hanno lo stesso colore per cui non è proprio il massimo però vediamo se riusciamo a vedere qualcosa quindi se io lancio questa applicazione al netto che compili e compili la beh lui sta già funzionando in realtà quindi se io riduco icona e ripristino la finestra dovrebbe già chiamare la paint oppure se io passo qui e torno qui che nascondo la finestra le visualizzo dovrebbe già passare per il paint come ce ne accorgiamo se metto qui un breakpoint e clicco sulla finestra vedete che boom dovrebbe la metto icona la ritiro su eh bisogna bisogna farlo il maledetto si bufferizza ah beh scusate l'ho lanciata senza il debug quindi non si sarebbe fermato comunque ok questo sono sono un somaro io non ero in debug quindi potevo mettere tutti i breakpoint che volevo ma ok quindi proviamo andiamo qui mettiamo il breakpoint quando clicco qui metto giù torno su ecco torna qui cioè minimizzo la finestra la reattivo si è fermato qui perché ha inviato qui tra l'altro vediamo tutto il giro dell'applicazione l'API di Windows vediamo la parte dell'API di Windows l'IDL di Windows che entrano nella procedura che gestisce i messaggi di Windows che poi la va a ridirezionare al paint del controllo grafico che scatena l'evento paint che va a chiamare la mia procedura quindi vediamo tutto il percorso del messaggio paint di Windows che dice ti devi ridisegnare che DELFI consente cioè va a veicolare alla fine facendolo arrivare all'evento quindi diciamo che una cosa a basso livello diventa una cosa di alto livello è più facile da gestire perché qui prendiamo riferimento a questo canvas a questa tela impostiamo colori stili riempiamo dei rettangoli e siamo a posto quindi qui lui cosa fa cerca di ciclare questa lista ma questa lista al momento il control mi fa c'è l'effetto collaterale che il control mi rende meno visibile comunque c'è scritto count zero forse si vede e quindi il mio ciclo diciamo non entra neanche si conclude perché non ho figure quando quindi la riduco la torno a ripristinare lui passa sempre di qui quindi ogni volta che la finestra viene nascosta viene ridisegnata lui passa di qui per chiedere cosa deve ridisegnare adesso ho tolto il breakpoint quindi non si non si ferma più facciamoli disegnare qualcosa la nostra lista è vuota se noi pigiamo il pulsante come abbiamo visto andiamo a creare due rettangoli e li andiamo a mettere in questa lista quindi cosa succede in realtà ci manca un pezzettino secondo me cioè cliccando cosa succede che noi abbiamo creato i rettangoli ma vedete che qui non appare niente perché noi dobbiamo informare la nostra applicazione che quello che c'è lì dentro deve essere ridisegnato cioè Windows al momento non sa che quello che noi avremmo disegnato qui dentro è scaduto cioè non è più corrente ma ha bisogno di essere ridisegnato come facciamo a forzarlo se riduco la finestra icona e la tiro su ecco che vediamo i rettangoli perché perché la riduzione icona al ripristino ha scatenato il mitico delta diciamo che qui la questione è che appunto se noi disegniamo dentro a questo paintbox e minimizziamo ripristiniamo perdiamo il contenuto dobbiamo usare quell'evento però usando quell'evento noi indichiamo a Windows cosa va disegnato quando lui ritiene che il controllo vada aggiornato quindi se noi minimizziamo ripristiniamo viene aggiornato se pigiamo il pulsante ma la finestra non viene nascosta è mostrata non viene non accade nulla lui non si accorge non sa che deve andare a disegnare i rettangoli e noi appena clicchiamo li creiamo li vogliamo vedere quindi come facciamo a risolvere questo problema molto banalmente qui nel nostro pulsante creiamo i due rettangoli li mettiamo nella lista prima di uscire non c'è un metodo tipo refresh sì in realtà il refresh è più invasivo perché il refresh è forza il paint in realtà noi dobbiamo dire paintbox 1 che ha un nome bruttissimo poi lo cambieremo punto invalidate invalidate vuol dire informiamo windows che quell'area quello che c'è dentro non è più corrente perché non facciamo refresh ma facciamo questo perché noi potremmo fare degli invalidate su più controlli oppure qui dentro potremmo chiamare dei metodi che richiamano questi invalidate più volte quindi non andiamo siccome facciamo tre cose che richiederebbero tre aggiornamenti all'interfaccia grafica ma l'interfaccia grafica come viene aggiornata mandando un messaggio all'applicazione per dirgli che deve aggiornarsi ma quel messaggio verrà gestito solo quando noi usciamo da questo button click perché il messaggio va in coda quindi appena noi usciamo di qui arriva il messaggio di paint con questo invalidate se noi informiamo windows mille volte che deve fare refresh il refresh sarà sempre solo uno quindi questo invalidate vuol dire quello non è più corrente se io lo chiamo dieci volte non faccio dieci refresh ma informo windows dieci volte cosa accade che quando questa routine ha fine e l'applicazione torna a gestire i messaggi windows ha cura di mandarci un messaggio per dirci guarda che devi ridisegnare quello che c'è di dentro quindi in questo caso faremo l'operazione una volta sola abbiamo però appunto anche un refresh che però forza la cosa quindi in certi casi può essere utile utilizzarlo perché altrimenti vedremmo una serie di modifiche solo alla fine di una routine ma la rallentiamo mentre questo è molto più veloce ma vediamo le modifiche in un paint cumulativo quindi possiamo scegliere e quindi in questo caso ovviamente ha senso questo invalidate poi intendiamoci questo invalidate dice a windows la grafica va aggiornata e windows la aggiorna in un micro cioè il messaggio arriva subito noi non ci accorgiamo neanche della differenza parliamo ovviamente di e io consiglierei salvo casi specifici di usare sempre questo invalidate vediamo se cambia qualcosa io lancio l'applicazione sono qui clicco bam vediamo subito il vediamo subito i rettangoli perché nel momento in cui io qui ho cliccato che è arrivato invalidate windows fa refresh chiama la paintbox la paintbox disegna quindi questo è il procedimento altrimenti windows non sa che quella paintbox va aggiornata perché la paintbox deve disegnare ogni volta quello che serve ma non lo disegna se non è necessario quindi diciamo non ha anche il begin update l'end update il canvas probabilmente ce l'ha ha un lock e un lock se non ricordo male però tu intendi scusate qui il canvas ha un lock che si può essere diciamo che in questo caso non dovrebbe darci fastidio però è fatto per diciamo che più che il flickering di solito si fa con il double buffering cioè usi il canvas che disegni in un bitmap e poi usi questo canvas per disegnare la bitmap così tu porti dentro sempre solo delle foto se invece aggiorni frequentemente questa routine essendo che quando disegni lui sblanca cioè va a togliere tutto poi disegna tante figure una sopra l'altra il fatto di sblancare e ridisegnare se va più veloce del tempo di refresh del monitor vedi se però tu lo fai in un bitmap disegno e bitmap vedi sempre un'immagine completa che cambia quindi hai tolto il flickering qui il lock sta a indicare che alcuni eventi legati al cambiamento o al disegno non vengono generati finché tu non lo sblocchi puoi chiamare lock n volte l'importante è che ad ogni lock venga eseguito lo stesso numero di unlock altrimenti non vedi più il disegno infatti perché qui ho messo il final perché se lo blocco e faccio questo ciclo e c'è un errore lui deve comunque sbloccarlo altrimenti rimaniamo che abbiamo un lock e zero unlock quando torniamo qui lo lockiamo due volte e se va a buon fine lo sblocchiamo una cioè ogni lock deve corrispondere a un unlock qui lo posso chiamare anche due volte l'importante è che se faccio lock due volte io faccio due unlock altrimenti non si sblocca quindi questo lo vedete anche dal codice che utilizza la famosa critical section vedete che c'è un entro il critical section incremento il lock count ed esco dalla critical section serve per proteggere questo contatore in modo da dire chiunque entri qui deve essere stoppato se c'è qualcun altro perché io sto incrementando poi io esco e consento l'accesso a qualcun altro e incremento questo contatore se andiamo a vedere l'unlock come è fatta vedete che lui cosa fa leave critical section e decrementa quindi nel momento in cui lui va a fare i suoi disegni va a fare un update quello deve essere a zero altrimenti non vediamo più nulla poi c'è il refresh sono tutte le varie c'è un API abbastanza ricca però adesso non la vediamo tutta però però con questo può ottimizzare perché se ci sono dei side effects legati ai disegni che facciamo così li stoppiamo facciamo tutte le nostre operazioni e poi li lasciamo in altri framework questo è imprescindibile cioè questa cosa va fatta in ogni caso ci sono dei begin scene end scene ad esempio nel caso di grafica 2D perché abbiamo degli oggetti e quindi abbiamo diverse alterazioni di stato diciamo in questo caso diciamo facciamo bocce ferme facciamo quello che c'è da fare poi sblocchiamo andiamo a dare un colore ai nostri rettangoli possibilmente diverso perché li vedo blu e non distingo l'uno dall'altro come facciamo la cosa più semplice potremmo dire andiamo nel nostro rettangolo mettiamo qui un property tcolor tipo tcolor che viene letto da un campo che si chiama color e viene scritto da un campo che si chiama color ci manca tcolor dobbiamo aggiungere ui types ah si beh come prima quindi system ui types così abbiamo il tipo tcolor qui si arrabbia perché questo campo ancora non c'è quindi io gli ho detto la proprietà il tipo e di leggerlo da un campo e di scrivere su un campo niente funziona il campo ancora non c'è ma se voi fate ctrl shift c tac vi trovate qui lui è andato a completare la dichiarazione della classe quindi quel ctrl shift c è magico ogni volta vi se vi mancano se vi mancano dei campi vi li aggiunge se vi mancano dei metodi metta la dichiarazione vi porta direttamente all'implementazione quindi voi non avete bisogno di navigare nel coach aveste questa classe dove voi potete tenendovela un po' ordinata come dire gestirvi un po' tutti i campi tutti i metodi e navigare ctrl shift su ctrl shift giù potete passare dall'implementazione ai metodi ok vedete che qui passa dalla proprietà al metodo qui passa dalla dichiarazione all'implementazione potete spostarvi una volta che avete imparato i tasti quindi questa la usate proprio come navigazione qui avete la foto di come è fatta la vostra classe se volete entrare nei dettagli ctrl shift giù e arrivate nel qui ho usato un campo perché non mi interessa validare si può leggere scrivere direttamente in un valore essendo assegnato un tipo questo tipo come dichiarato è un intero che ha un range specifico che rappresenta un colore ecco la cosa che noi possiamo fare è in fase di creazione andare ad assegnare un colore al nostro rettangolo come lo facciamo con un costruttore questa è una cosa che abbiamo ancora visto noi il costruttore l'abbiamo già richiamato perché qui quando facciamo create noi andiamo a creare questo oggetto in realtà il create che invochiamo non è di rettangolo shape che non ce l'ha ma è un costruttore che è vuoto che serve perché non ha del codice custom ed elfi conosce questo tipo ed è diciamo conosciuto dal compilatore è un costruttore che alloca tanto spazio quanto serve per memorizzare i campi del nostro rettangolo però noi possiamo dichiararlo qui scavalcando diciamo quello originale quindi possiamo aggiungere un nostro costruttore create per inizializzare il nostro rettangolo in vari modi ad esempio qui potremmo anche prendere dei parametri prendere già delle coordinate prendere già un colore iniziale potremmo già configurarlo in un certo modo potremmo crearne più di uno di queste create quindi al momento mettiamo quello standard di default che non fa nulla ok in questo costruttore cosa andiamo a fare andiamo a inizializzare ad esempio andiamo a dire che il rettangolo che viene creato non parte con le coordinate 0,0 altezza e larghezza 0 ma parte con la x vabbè la x e la y mettiamole a 0 la larghezza la mettiamo all'altezza scusate la mettiamo a 100 e la larghezza la mettiamo a 200 è un po' come partire con un rettangolo già configurato il valore di mettere qui dei parametri vuol dire che magari questi valori potrebbero arrivare dall'esterno ecco questo tendenzialmente è completo funziona non da errori ma di solito all'interno di un costruttore si va ad aggiungere qualcosa che è una cosa di questo tipo inerted create a cosa serve questo inerted create serve se ci faccio un control click a chiamare anche se in questo caso è vuoto perché non fa nulla di più rispetto a quello che Delphi già fa per creare l'oggetto va a chiamare il costruttore della classe da cui noi ereditiamo perché noi qui non abbiamo stabilito che il nostro rettangolo deriva da qualcosa ma in automatico questa eredita da una classe che è comune a tutti gli oggetti che è tobject che rappresenta la classe da cui derivano tutte le classi per forza questo è un po' il se noi non mettiamo nulla è implicito che si derivi da tobject perché io qui cosa vuol dire derivare vuol dire che la mia classe prende tutto quello che c'è qui se avete notato se io vado qui nel mio main quando ho un rettangolo ho a che fare con un rettangolo come in questo caso cosa vedo x, y e the width ma se scrivo l rettangolo punto vedo anche altre cose se mi sposto verso il basso vedo anche class type class name class name is class parent questa roba qui io non l'ho mai dichiarata nel mio rettangolo perché c'è perché è roba che è introdotta da tobject cioè il nostro rettangolo è anche un oggetto quindi come tale ha queste funzioni questi metodi che consentono di restituire il tipo a cui appartiene il suo nome una funzione booleana che dato il nome ti dice se il suo nome della classe è quello informazioni su indirizzi di vari metodi eccetera quindi varie informazioni e poi ci sono quelli che io ho aggiunto nel mio rettangolo quindi noi non partiamo da zero ma noi partiamo da quello che vediamo qui che abbiamo qui in tobject che è roba che Delfi ci dà in automatico quindi eccoli qua tobject è una classe non è rate ovviamente a tobject perché non è circolare è una classe cioè c'è una dichiarazione ma il compilatore Delfi lo conosce non è un tipo è un tipo che ha un trattamento particolare ecco questo e qui dentro vediamo tutte le funzioni che nel nostro rettangolo vengono invocate quindi il nostro rettangolo partendo da qui estende quello che c'è qui e aggiunge altre cose quindi questo inerted create è un modo per dire siccome la mia classe ne estende un'altra qui chiamo il costruttore che inizializza tutto ciò che io eriso dalla classe di partenza in questo caso tobject e poi inizializzo le cose che introduco qui a livello di rettangolo ad esempio x e y ma possiamo metterci anche il color tcolors appunto potremmo farlo partire da un bel blu sgargiante poi tutto al più se vogliamo lo possiamo customizzare quindi dove abbiamo già visto questa scrittura beh siamo nel mainform qui ad esempio la nostra mainform è la classe che definisce che cosa c'è dentro e quali sono le funzioni eseguite dalla finestra principale del programma perché appare già con un contenuto perché non è un oggetto qualsiasi ma è reddita tform cioè reddita da una classe che rappresenta la finestra vuota la mainform è una finestra vuota con queste cose in più e come abbiamo visto le volte scorse quando abbiamo usato la visual form inheritance quando usiamo i form e i frame e creiamo delle versioni specializzate ereditiamo da una form che a sua volta è reddita da tform vuoto cioè noi possiamo partire da una finestra vuota e creare una finestra oppure creare un'altra finestra che è reddita da questa aggiunge man mano delle cose qual è il vantaggio di ereditare che una cosa usata da tutte dichiarata in un punto ed è ereditata è codice di cui noi non facciamo ad esempio del copio e incolla quindi nel momento in cui noi dividiamo ad esempio un bug in tobject qui c'è un bug lo risolviamo qualunque oggetto in delfi viene automaticamente fixato perché quella funzionalità che sta qui ovviamente è ereditata è riutilizzata da qualunque oggetto appartenga di fatto a una classe perché come minimo anche se noi qui se io vado qui adesso lo rimuovo questa rectangle shape è dichiarata andiamo a vedere se mi fermo qui e la guardo e vedo che per l'ambiente il mio rettango shape è ereditata sempre e comunque quindi è implicito ovviamente non siamo costretti a ereditare qui lo possiamo mettere per come dire per esplicitare ma non siamo costretti a ereditare da questo possiamo ereditare da qualunque classe abbiamo scritto noi ma anche da qualunque classe esista all'interno del nostro sistema cioè ad esempio qui noi potremmo dire team my canvas class t canvas ad esempio e voilà abbiamo creato un nuovo tipo che prende questo tipo e lo estende con cosa? al momento con nulla ma noi potremmo mettere qui dei nuovi metodi potremmo mettere dei nuovi campi my field cioè prendiamo tutto quello che c'è qui e aggiungiamo delle cose senza duplicare quello che c'è qui senza poter nascondere anche quello che c'è qui tutto ciò che noi ereditiamo non possiamo come dire offuscarlo ma siamo costretti a mantenerlo e tutto il più lo possiamo estendere tant'è vero che molte di queste classi tform se andiamo a vedere come sono dichiarate sono delle classi che non hanno implementazione ma hanno solo delle proprietà dichiarate con una visibilità che estende quella ereditata da la classe che effettivamente implementa tutto cioè siccome io non posso nascondere nulla allora cosa fanno fanno una form vuota fatta e finita con tutto nascosto e poi il tform che è quello standard eredita cioè espone tutto quindi se io voglio prendere tutto ed estendere posso partire da tform se voglio avere tutto quello che c'è in un form ma esporre solo quello che mi interessa eredito da tcustom form dove tutte quelle proprietà che noi vediamo tipicamente qua nell'object inspector le vediamo tutte adesso ci arrivo tipo visible tipo caption adesso non la trovo ma sarà più giù tutti gli eventi tutte le varie le troviamo caption eccola qua le troviamo in una sezione che è public per poter essere visibili nell'object inspector devono essere in una sezione che è published che è una visibilità in più che consente di rendere questi elementi visibili anche all'object inspector e poterli configurare da qui quindi l'object inspector che vedete qui non è altro un modo per interattivamente usando l'ambiente andare ad assegnare dei valori e delle proprietà quindi se mai daremo un'occhiata a come sviluppare dei componenti in delfi questa cosa la potremo vedere quindi quando voi qui cliccate cambiate una proprietà state semplicemente rimpostando una proprietà di un oggetto quindi abbiamo messo il color perché? perché così con questo pulsante noi adesso aspetta che tolgo no l'ho già eliminato quando creiamo il nostro rettangolo parte già blu e noi andiamo qui e gli diciamo color due punti uguali t colors punto ne facciamo uno rosso e poi ne facciamo un altro c'è un verde e un altro verde quindi nel disegno qui nella paint invece che mettere qui un colore fisso prendiamo rettangolo punto color leggiamo il colore e così abbiamo sempre un codice che ne crea due in questo caso ne creiamo n quindi appena pigio lui aggiorna ecco che li abbiamo li abbiamo distinti da subito quindi ogni volta che io chiudo e riapro ok vedo che vedo sempre lui riesegue il paint se metto un breakpoint il richiamo degli sviluppatori oddio come piccolino l'ho ridotto un po' troppo poi nell'angolo in alto a sinistra ciao dottoroni mi è arrivato il richiamo degli sviluppatori buona Steve Ballmer altri tempi quelli di Steve Ballmer visto la pubblicità dove entra appunto che inizia a ballare I love this company riferito a Microsoft ci credo con tutti i milioni che ci hai fatto credo che quindi l'oreal l'oreal ah beh non sono in debug come sempre lo lancio senza debug per fare prima ecco che la prima volta dobbiamo ovviamente entrarci dentro per disegnare ma non abbiamo non abbiamo rettangoli e quindi non facciamo nulla ma se io pigio chiamo invalidate lui deve andare a ridisegnare questa volta dovrei avere i due rettangoli quindi lui cosa fa prende lo stile e riempio il primo riempio il secondo fine del ciclo sblocca quindi parte anche il disegno e ci troviamo il disegno ai tempi parteggiavo per IBM ai tempi mi ricordo delle cose dei meme che giravano con Bill Gates con delle croci uncinare proprio adesso c'è un Microsoft che era il diavolo adesso Microsoft love Linux Linux integrato in Windows cioè negli anni 90 una cosa del genere sarebbe stata eresia se uno mi avesse detto che sarebbe stato realtà del genere e li avrei risi in faccia come si vede i tempi i tempi cambiano quindi perfetto quindi qual è il vantaggio anche dell'ereditarietà il vantaggio dell'avere dell'ereditarietà è che io adesso vorrei aggiungere un altro tipo di forma perché sono stanco di disegnare solo dei rettangoli quindi come potrei fare potrei intanto andare a raggiungere una nuova unit facciamo che questo lo chiamo euclide shapes lo chiamo ellipse quindi un ellisse piacevo s2 l'ho usato una volta sola quindi qui facciamo type t ellipse shape class quindi una volta che uno ha preso anche fare una classe è semplicissimo cos'ha questa classe che cosa avrà fondamentalmente disegnerà un ellisse quindi questo è l'obiettivo però a dispetto di un di un rettangolo il disegno sarà un po' diverso tutt'al più però che cosa come potremmo rappresentare una figura come l'ellisse dovremmo dare una x e y di inizio dovremmo dare una larghezza e un'altezza diciamo che o gli diamo dei come dire dei semi assi oppure gli diamo una origine un'altezza e una larghezza legate al diciamo al rettangolo in cui voglio iscrivere l'ellisse così facciamo prima quindi cosa vado a fare vado a dire private x integer vado a scrivere 8 però attenzione che 8 deve essere controllato procedure set 8 value eccetera eccetera ecco qui noto già una prima cosa che quello che sto andando a scrivere fondamentalmente ha molte cose in comune con le cose che ci sono nel rettangolo ma per ovvi motivi ovvero perché perché dovrei duplicare tutto questo codice posso evitarlo certamente perché grazie alla programmazione di oggetti e le ritalità io cosa posso cosa posso fare cosa posso ottenere una cosa che mi sono dimenticato di fare che può essere utile siccome io voglio disegnare diverse figure ogni figura si disegna in modo diverso io qui vorrei evitare di fare una cosa del tipo se 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 rettangolo allora faccio questa roba se ellisse quindi la programmazione oggetti serve anche per evitare degli if per evitare anche degli switch dei case come posso farmi aiutare programmazione oggetti beh siccome io in base alla figura ho un disegno diverso potrei far sì che sia la figura che disegna all'interno del canvas se stessa quindi integrare in ogni classe effettivamente non è su una logica esterna ma potrei dire ciclo ogni figura ad ogni figura gli dico cara figura questo è il tuo canvas disegnaci dentro disegnatici dentro ecco questo è quello che potrei fare quindi potrei dire mettiamo qui una funzione pubblicamente accessibile ok che si chiama paint cioè disegnati gli posso passare un canvas di tipo t canvas che non mi ricordo dov'è vcl graphics siamo in vcl quindi sì ok è quello quindi vcl graphics ok e a questo punto ctrl shift c vado qui qui ho un canvas come mi disegno quel canvas esattamente nel modo in cui ho fatto qui prendo questa logica la taglio di qui la metto qui dentro e gli dico caro tu mi passi un canvas io sul tuo canvas metto questo stile questo colore non userò ecco anche qui vedete che sto evitando come mi accorgo che questo pattern non è proprio tutto corretto sto disegnando un rettangolo dicendo prendo le coordinate ottengo dal rettangolo la sua posizione la sua dimensione e disegno in quelle coordinate un rettangolo poi gli vado a chiedere il colore e uso quel colore per riempimento cioè io sto facendo una cosa che dovrebbe fare il rettangolo chiedendo il rettangolo delle cose cioè è come se non so voi andate a fare la spesa il cassiero la cassiera vi dice sono 20 euro e voi gli date il portafoglio per prendere 20 euro no cioè quello che fate non è farvi dare il rettangolo per estrarre tutte le informazioni chiedete al rettangolo di disegnarsi e il rettangolo ha già tutte le informazioni che servono il rettangolo dice dammi un canvas cioè io devo disegnare ho bisogno di un canvas una volta che ho il canvas io il rettangolo sono io che possiedo tutti i dati il canvas non ce l'ho ma siccome può essere un canvas di una stampante di una paintbox a video me lo passi tu e io ci disegno dentro quindi fondamentalmente qui lasciamo un attimo adesso qui cancello tutto perché ovviamente non andrò a replicare tutto quello che ho fatto per il rettangolo però qui la cosa comoda è proprio questa cioè tu mi passi il canvas mi imposto lo stile il colore non lo leggo da rettangolo ma ce l'ho nel campo già utilizzabile il rect lo posso recuperare dalla funzione get rect che è quella che uso per restituire la proprietà con questo valore quindi io praticamente delego al rettangolo la capacità di disegnarsi il passo dove disegnarsi e lui a questo punto ha già tutte le sue informazioni quindi qual è il vantaggio che mi dà questa cosa che avendo il mio rettangolo io gli dico caro rettangolo disegnati tiè questo è il canvas quindi una volta che avrò un ellisse avrò ellipse ellipse punto paint quindi dirò ogni figura di disegnarsi e intanto questo codice si semplifica e quella parte che adesso ho messo nel rettangolo mi consentirà di riutilizzare questo disegno magari anche altrove perché abbiamo tanti controlli ad esempio abbiamo qui un controllo che fa da control list cioè che mi fa una lista di righe per ogni righe potrei dover disegnare un'anteprima della mia figura dentro una cella di una griglia o dentro un'immagine che sta a sinistra di una lista quindi potrei disegnare il mio rettangolo ovunque con ovviamente date le dimensioni le coordinate che io gli ho indicato poi vabbè qui non teniamo conto chiaramente di di zoom e altre cose però questo potrebbe anche essere fatto da magari su un bitmap che poi viene ridimensionato quindi in realtà c'è sempre un esempio ecco da questo punto di vista quindi questa roba devo riscriverla tutta nell'ellisse no posso scegliere di agire in un certo modo ovvero di isolare tutte queste parti e metterle a fatture comune sfruttando l'eretarietà perché queste cose le scrivo qui e dovrei scriverle anche nell'ellisse perché se io prendo in esame il rettangolo e l'ellisse il fatto di avere una posizione e delle dimensioni nello spazio non ce l'ha in quanto specificatamente rettangolo specificatamente ellisse ma perché entrambe sono delle figure quindi ogni figura ha una posizione e delle dimensioni poi il rettangolo si disegnerà a suo modo l'ellisse si disegnerà in modo diverso l'ellisse potrà avere delle informazioni tipo i semiassi che il rettangolo non ha senso che mi dia l'area l'area ci impone un interrogativo possiamo calcolare l'area di una generica figura si se sappiamo che figura è ma non finché non abbiamo presente qual è la figura effettivamente specifica quindi tutti questi segnali questi smell questi odori sono un segnale che noi dobbiamo creare in realtà una classe base per tutte le nostre figure cioè dobbiamo creare una chiamiamola qui un fattore comune cioè andiamo a creare una classe la chiamiamo shapes faccio una unica si chiama base type t base shape uguale class questa è la mia classe careta da t object che rappresenta una una classe astratta cos'è una classe astratta? è un concetto astratto cioè se noi parliamo ad esempio di esseri viventi essere viventi è un concetto astratto cioè è una classificazione che facciamo noi per individuare come dire esseri con certe caratteristiche cioè che magari mangiano e che boh vabbè respirano non lo so ma mangiano sicuramente però non è che non è che tu puoi chiedere a qualcuno ok creami un essere vivente perché lui ti dirà ok ma cosa devo creare devo creare un si può arreditario da una sola classe si in delfi si c'è l'ereditarietà singola come in dotnet come in java però puoi implementare più interfacce quindi le interfacce per esigenze di semplificazione a differenza del c++ dove ad esempio puoi arreditare da più classi qui puoi arreditare da una classe sola però puoi utilizzare interfacce perché diciamo l'impostazione che tendenzialmente va bene per la maggior parte delle scenarie ecco da questo punto di vista quindi il base shape o custom shape che è molto spesso è un o non la chiamo t-shape perché c'è già un tipo in delfi che si chiama così quindi non voglio fare confusione diciamo così la base shape oppure potremmo chiamarla anche shape 2d ok chiamarla come vogliamo è la nostra classe che rappresenta il fattore comune cioè dentro cosa ci andiamo a mettere può avere un colore può avere un'altezza sì quindi tutta questa roba qui è tutta roba che fa parte della nostra classe dobbiamo get origin get rect tutta questa roba è tutta roba che sta qui dentro perché ce l'abbiamo abbiamo un'origine abbiamo un'area che occupa abbiamo altezza l'origine si può impostare quindi tutte le feature che abbiamo messo qui abbiamo una una create sì perché gli diamo delle coordinate di default questo sarà public perché a differenza delle parti pirate voto per custom shape sì diciamo che questo rende diciamo l'idea appunto di figura però in delfi sì c'è questa c'è questa prassi chiamiamola così dai l'importante è capire che quella è la figura quindi potremmo anche chiamarla figura strato o comunque t-shape diciamo è una figura quindi abbiamo tutte queste robe abbiamo scale potremmo metterlo move down tutte le proprietà tutta questa roba qui è roba che noi possiamo utilizzare anche per l'ellisse per il triangolo possiamo usare per qualunque figura perché perché esistono per ogni figura quindi perché non mettere una classe figura quindi mettiamo tutta questa roba qui ctrl shift c abbiamo il completamento della classe qui andiamo banalmente a copiare tutto quello che abbiamo qui perché va va benissimo ok quindi dobbiamo fare un po' un travaso che avrei evitato però ai fini della spiegazione ci stava questo questo getare al momento non lo metto metto il getorigin metto il getrect che ci sta poi ci sono ecco ci sono tante funzioni qui abbiamo incremento la y perché è la x incremento la fx la posizione che è la x la paint al momento non ce l'abbiamo però abbiamo la scale con un fattore abbiamo l'impostazione dell'altezza della larghezza abbiamo l'impostatore di tutta questa roba facciamo poi abbastanza presto poi ci sono dei tool che vi consentono di rifattorizzare di fare un extract superclass adesso non ce l'ho installato mx però alcuni tool vi consentono di dire creiamo una superclass scegliere i metodi in cui estrarli e lui li toglie da una parte li mette da fondamentalmente fa in automatico la cosa che nel momento stiamo facendo manualmente cioè ad esempio dire qui nel rettangolo quindi tutto ciò che è comune cioè è nel rettangolo in quanto è una figura noi lo possiamo andare a questo punto a eliminare il getaria ce lo lasciamo il pen ce lo lasciamo per il momento togliamo tutto questo quindi qui sotto fondamentalmente ci rimane praticamente nulla quindi adesso accelero ho tolto forse qualcosa di troppo no il getaria ce lo dobbiamo lasciare ce lo lasciamo quindi questo lo togliamo get origin get rect move down sono tutte condivise no il paint ce lo lasciamo questa roba la togliamo quindi arrivati a questo punto il paint ha già un problema perché gli ho tolto i campi quindi non può accedere a questi campi perché perché adesso non sono a parte che adesso il rettangolo non li ha proprio più però al rettangolo diciamo non abbiamo più nulla di privato ma il rettangolo non sarà più un oggetto ma sarà un qui ricordo scrivete a mano oppure potete fare alt f11 scegliere la unit decidere in quale sezione metterla e andiamo a importare la unit che contiene la nostra figura di base custom shape il rettangolo non è è una shape specifica quindi questa è la figura generica il rettangolo attualmente è una figura di cui posso anche calcolare l'area e anche disegnarla qui ovviamente questi campi non li posso più leggere a parte che qui ho usato un campo qui ho usato la proprietà infatti qui non mi dà errore su questa su questo sì perché questo risulta non dichiarato in quanto pur ereditando dalla classe base questi sono privati privati le cose che sono private vuol dire che se io estendo questa classe questa roba è una scatola nera questa roba invece la posso leggere e la posso utilizzare quindi è il motivo per cui qui accedo alla proprietà è una proprietà che è public quindi la posso leggere il width invece che è un campo con la f davanti non lo posso leggere perché è privato ma se metto il nome della proprietà sono a posto anche qui uso il colore get rect è un è privato però se faccio rect che in realtà è una funzione quindi qui userò self rect ok self vuol dire me stesso vado a leggere praticamente questa proprietà e la vedo perché è public e la vedo perché perché io ho detto che il mio rettangolo estende questo custom shape vuol dire che tutto ciò che questo offre e tutto ciò che sta qui più al momento queste due funzioni nel mio mainform mi aspetto che non funzioni nulla cioè che sia tutto da riscrivere in realtà provo a compilare giusto per vedere qui ci sono del degli errori ok mancano dei tipi questo ah perché non ho trasferito anche questi tipi perfetto trasferisco intanto questi che secondo me è sufficiente ho usato dei tipi di unit che non ho incluso quindi giustamente mi va in errore e lui ha compilato il mainform non ha avuto bisogno di modifiche strano perché tutta questa roba l'ho spostata però se vado a vedere rettangolo io mi ritrovo ancora tutto perché? perché gettare e paint sono specifiche del rettangolo questo create in realtà è quello della mia custom shape che scavalca in un certo senso quello che Delphi fornisce per gli oggetti generici queste sono le funzioni della custom shape e poi ci sono le funzioni i metodi di tobject quindi vedete che la mia estensione ha preso tutto quello che c'è nello shape quindi vedo tutte le proprietà e al momento ha queste due informazioni che mancano quindi il codice praticamente rimane è perfettamente compatibile e se lo lancio dovrebbe anche disegnare visto che non ho provato questo metodo dovrebbe disegnare il tutto e ottengo lo stesso effetto di prima qual è il vantaggio di questa cosa? che se io adotto questo fattore comune viene molto più facile a questo punto estendere la mia applicazione con nuove funzionalità ovvero io ho il mio ellisse e voglio creare una ellisse cosa faccio? creo una unit ok creo questa classe shape la classe shape è fondamentalmente una figura quindi una shape quindi cosa faccio? importo la unit con la classe base e la metto qui qui dico che estende da custom shape a questo punto l'ellisse ha tutto quello che ci aspettiamo della shape quindi se io vado nel main e al mio pulsante vado qui a dichiarare anche una variabile prima di fare invalidate var ellipse uguale devo importare la unit quindi la importo importo questo così vedo il tipo ellipse shape create e vado su ellipse vedo di nuovo tutte le proprietà posso impostargli la x la y ok e via discorrendo e poi lo posso anche andare a disegnare non posso chiaramente fare questa cosa rectangle add l ellipse perché? perché io i miei rettangoli la mia lista rettangolo è una lista di rettangoli vuol dire che quando io ciclo questa lista di rettangoli questo ogni singolo elemento è un rettangolo vuol dire che dentro c'è quello che c'è in shape che è condiviso anche con l'ellisse ma essendo un rettangolo io vedo questo get area e questo paint che sono propri solo del rettangolo se provo qui con ellipse ellipse non vedo un get area non vedo un paint non vedo nulla perché nell'ellisse non ci sono e non posso aggiungere questa lista di rettangoli perché le lisse sono fratelli cioè la mia gerarchia è fatta così io ho la mia figura generica in alto ok la mia generica custom shape ho preso i rettangoli ho creato la classe che definisce il comportamento di un rettangolo ovvero il rettangolo è una shape con cose in più e poi ho il mio ellisse quindi se creo un object list di rettangoli non posso metterci dentro un'ellisse come potrei creare una lista generica che mi possa contenere sia un rettangolo o un'ellisse è molto semplice la mia lista non deve essere di tipo rettangolo o ellisse ma deve essere di tipo custom shape se io creo una lista di custom shape vuol dire sto creando una lista che contiene oggetti che sono dei custom shape ma un rettangolo è anche un custom shape un'ellisse è anche un custom shape quindi vuol dire che se creo la lista di questo tipo allora potrò andarci a mettere dentro anche il mio ellisse quindi vado qui e scrivo custom shape importo la unit perché ancora non l'ho importata e scrivo custom shape ovviamente quando la creo devo indicare lo stesso tipo qui mi sta dando un errore perché mi dice non puoi assegnare una variabile che contiene un object list di shape un object list di rettangolo shape cioè lui vuole le figure di base e io la sto creando e devo mettere custom shape anche qui chiaramente anche questo metodo questo campo scusate deve essere rinominato diventerà shapes quindi qui avrò shapes qui faccio il free qui vado qui e dove ho riferimenti a quella lista ora ci arrivo la chiamerò shapes ok a questo punto qui non mi va in errore perché lui vuole una shape quindi vuole qualunque oggetto appartenga a un tipo che sia custom shape o discendente quindi io qui nella gerarchia ho stabilito che da lì in poi se scelgo una classe che è fratello di un altro non li posso non sono compatibili se scelgo una classe che tutti e due stendono sto usando il fattore comune e quindi ho creato una lista che potenzialmente quindi qui potrei fare una cosa potrei dire che queste sono quindi shapes che il singolo valore è una figura che figura è boh io qui dovrei scrivere una cosa del tipo shape figura disegnati nel canvas e la figura dovrebbe potersi disegnare a seconda di quale figura è c'è un piccolo problema che intanto paint non lo posso richiamare perché perché è in paint al momento è una adesso non follow ma non so di chi è finché non lo vedo nella chat che mi arriva troppo in ritardo mi comparirà se mi comparirà ok grazie per il follow a chi ha lasciato il follow se hai un follow poi vedrò vedrò di chi si tratta forse è una cosa in ritardo una notifica in ritardo boh poi lo scoprirò scrivi in chat così vedo non so perché a volte dà delle notifiche in ritardo per qualche strano motivo ma vabbè Twitch fa le bizze stasera cosa stavo dicendo ok paint ce l'ho solo qui quindi non ce l'ho nell'ellisse e non ce l'ho neanche nella shape di base quindi qui va in errore perché io non posso chiamare paint mettiamo che io metta qui dentro tutti i rettangoli funzionerebbe ma siccome io ho detto che la mia lista può contenere generiche figure potrebbe anche essere anche se io creo tutti i rettangoli potrebbe accadere che sia un ellisse quindi io non posso accedere a qualcosa che è specifico di un di un tipo particolare cioè qui in shape posso richiamare solo tutto ciò che è comune a tutte e due le shape non posso accedere a qualcosa di specifico a meno che non lo controllo prima ovvero potrei dire se la mia shape è un t rettangolo shape cioè dico se è un rettangolo allora cosa faccio il classico cast cioè dico ho una variabile che appartiene a un tipo che è più astratto e più generico coral coral mie ho la vista che mi devo avvicinare ho scritto troppo in piccolo per sviluppare web va bene delfi si dipende da allora ci sono diverse librerie che diciamo si integrano in delfi e ti fanno fare applicazioni un po' dag and drop ci sono librerie che ti generano del javascript oppure si può utilizzare delfi per la parte di back end quindi era notifica non vedo mai chi è stasera la chat è incriccata puoi farci il back end ci sono dei framework abbastanza blasonati uno è incorporato uno si chiama delfi mbc framework che usa il paradigma mbc dove puoi crearci il back end molto veloce perché comunque è un'applicazione nativa quindi è compilata potenzialmente cross platform quindi si può mettere su linux su windows e fare solo il back end quindi per il front end potresti usare le classiche angular react e quindi crearci praticamente solo l'api ognuna di queste soluzioni è una strada percorribile dipende ovviamente anche dal team di sviluppo da chi sviluppa l'applicazione come intende procedere dal lato ci sono molti sviluppatori delfi che sono abituati a fare applicazioni desktop e usano dei framework che sono molto simili ma fanno applicazioni web io apprezzo javascript generalmente i front end li faccio con javascript e con delfi magari il back end sul back end diciamo non c'è nulla delfi ha perfettamente le carte in regola anzi sono delle implementazioni che hanno testato ad esempio del finvc framework mettendolo proprio alla frusta usate da azienda abbastanza grande ad esempio che fanno sistemi per biglietteria quindi sappiamo quando esce tipo un concerto i bagarini quanto possono essere quanti biglietti spariscono nell'arco quindi accetta molte richieste è molto performante è un'alternativa valida bisogna un po' studiarsi i framework ma ce ne sono c'è Mars un frame che si chiama Mars Curiosity c'è un frame che si chiama Whirl c'è un frame che si chiama Horse ce ne sono diverse ci ho fatto anche qualche live le ho messe sul canale YouTube che sta qui quindi se qualcuno se uno vuole rivedersi il replay perché da Twitch vengono rimossi dopo un po' c'è ci sono alcune alcune live che ho fatto però abbiamo fatto una semplice web API anche un paio di live abbiamo fatto queste cose quindi per terminare il nostro problema ecco devo fare questa cosa qui cioè verificare dire questa è una figura generica ma testo se è un rettangolo nel caso sia rettangolo trattando come rettangolo quindi questa è una cosa è una forzatura che faccio ma la faccio sono sicuro allora posso chiamare Paint posso chiamare Getarea ok quindi posso fare queste cose prego prego sono qui si può dire apposta quasi quindi non sono pagato per però faccio divulgazione volentieri quindi questo ovviamente è una roba il problema è che ogni figura che noi creiamo dobbiamo andare io vedo questa notifica in continuazione non so perché perché esce non riesco a vedere la notifica vabbè andrò a vedere poi di chi chi ha messo il follow grazie a chi ha messo il follow non so perché non mi compare forse potrei vederlo da ah perché aspetta c'è il feed attività qua mi arrivano tutti tutti in una botta boh strano vabbè tanto vedo mezza c mi ha seguito ancora il mio mi ha seguito grazie mb lal mi ha seguito grazie sono ancora connessi ma grazie a tutti per i follow ho imparato dovevo andare a leggere si vede che sono un po' vabbè sono un po' distratto stasera quindi qui abbiamo un problema ovvero per ogni figura che noi aggiungiamo dobbiamo andare a modificare il codice mentre a me piacerebbe lasciarlo così che ha anche un senso se ci pensate perché io dico blocco la mia tela ciclo le figure e dico ogni figura disegnati se è un rettangolo si disegnerà come deve disegnarsi un rettangolo se è un elisse come un'elisse ma perché devo andare io a dire se è uno se è l'altro a chiamare un metodo specifico anche perché la capacità di disegnarsi così come la capacità di calcolare l'area è una cosa che posso fare genericamente su qualunque figura cioè se faccio una domanda del tipo ma una figura bidimensional un rettangolo un'elisse e un cerchio posso calcolare l'area uno potrebbe dire sì in modo diverso ma la puoi fare per qualunque figura bidimensionale ogni figura bidimensionale ha un'area quindi nella nostra gerarchia non ha molto senso che io questa funzione la metta qui ma idealmente questa funzione dovrebbe stare qui cioè dovrebbe essere qui perché ogni figura la mia classe base delle figure ogni figura può calcolare la propria area quindi la funzione dovrebbe stare tendenzialmente qui c'è un problema ecco dichiarandola qui ovviamente al netto che adesso non la implemento e va in errore perché qui potrei anche ad esempio fare un elenco delle aree potrei quello che ottengo che qui posso chiamare get area posso ottenere l'area quindi potrei mettere quella e potrei mettere anche il paint a questo punto perché ogni figura è capace di disegnarsi semplicemente ogni figura lo fa in modo diverso quindi il paint lo metto qui e a questo punto questo codice mi compila perché ho colmato il gap c'è un piccolo problema ovvero ho detto che ogni figura può calcolare l'area può disegnarsi ma qui tecnicamente come faccio a implementare questi metodi cioè faccio ctrl shift c potrei dire che qui restituisco ad esempio 0 ma 0 è un valore valido per le aree quindi questa cosa non è del tutto corretta cioè mettere in scena allora la prima cosa che posso fare è dire metto il metodo qui perché tutte le figure possono calcolare l'area quindi quando dico che una cosa che una figura le possono fare tutte già è un segnale che deve stare nella classe base il problema è che ogni figura ha una formula diversa per calcolare l'area quindi come faccio devo fare in modo che il mio rettangolo anche il mio rettangolo abbia una funzione per calcolare l'area con un corpo diverso e in questo caso lo posso fare qui ho spostato forse perché mi da quest'errore qui non lo so perché dovrebbe vederlo a parte di visual graphics quindi non dovrebbe andare in errore secondo me si è si è bloccato qualcosa aspetta che proviamo ad avviare no secondo me è un sintomo di di qualcos'altro però c'è qualcosa che non va quindi qui la funzione ce l'ho ma devo fare in modo che supponiamo di implementare implementiamo questi metodi getarea e anche paint ok non so perché adesso mi sta andando un errore su questo ma sicuramente è una roba allora qui ci sta perché non ho messo la unit ok forse questo che gli dava noia si e questo che gli dava noia l'errore in custom shape si si ma l'errore in trovato trovato e qui boh non so cosa scrivere onestamente però qui potrei dire ecco potrei mettere uno sfondo non so ogni mia figura ha uno sfondo quindi imposto come colore un colore black o se volendo possiamo usare tcolors black e canvas brush style facciamo che questo sia sempre solid ok e prendo canvas e sapendo quanto è larga la figura riempio questa figura di di un colore boh nero qualcosa del genere posso spoilerare visto un'altra no non puoi spoilerarlo che non hai bcl non devi spoilerare infatti no ci sta perché diciamo che c'è un problema logico da questo punto di vista però ci arriviamo c'è anche un problema fattuale a questo punto quindi qui ho messo un paint nel custom shape dove disegna questa roba però il rettangolo ne ha uno e a questo punto potremmo metterne una anche nell'is perché noi sappiamo che nella classe base ci vuole ma anche in quelle discendenti perché ognuno si disegnerà e calcolerà l'area in modo diverso quindi questo per definizione quindi ok se noi eseguiamo quindi questa funzione adesso abbiamo fatto le cose per bene ovvero abbiamo uno shape che ha sia il paint che il get area ma ne hanno una anche i vari rettangoli e le ellipse quindi mi aspetto che qui venga disegnato se mi metto un break point no questo non è un break point più in là viene disegnato quando aggiungo le mie figure mi aspetto che lui vada a disegnare questa roba ho già un warning però vabbè adesso è tutto vuoto clicco quindi ho il mio primo shape se noi andiamo a esaminare qui vediamo le caratteristiche dello shape e dovremmo poterne vedere anche il tipo forse magari con un inspect lshape non me lo sta facendo vedere ok se io qui entro in questo metodo e provo a disegnare finisco nel custom shape quindi riempio di nero quell'area esco e poi ho fatto il disegno faccio l'altra faccio la terza che è l'illisse quindi al momento in shape ce li ho tutti e tre se vado a vedere scusate in shapes ho tre elementi non so se riesco a farli vedere items ho tre indirizzi non si vedono bene però che corrispondono alle tre figure sono queste qui uno due queste tre sono le figure che sto disegnando quindi le sto disegnando ma in realtà sto disegnando i gran nell'ellisse non sto disegnando nulla o meglio l'ho disegnato perché qua dietro si vede il bordino del rettangolo ma questo lo copre interamente e poi c'è questo sto disegnando cioè sto chiamando questa implementazione ma non sto chiamando quella del rettangolo se però facessi questo perché perché sto usando una variabile che in realtà appartiene al tipo di base ovvero a custom shape perché la mia lista è una lista di figure quindi se ho una figura generica e dico disegnati mi viene chiamata faccio ctrl click questo metodo con questa implementazione e stop ci vorrebbe una feature della programmazione oggettica che è il polimorfismo ovvero a me fa comodo usare una variabile che rappresenta una figura generica perché in questo modo ci metto dentro tutte le figure di vario tipo ma io vorrei dirgli che quando chiamo painter lui non deve chiamare questa di base ma deve chiamare quella del rettangolo o quella dell'ellisse quindi al momento cosa avviene che ho una variabile che è di tipo custom shape quando io chiamo paint io ho una tabella di funzioni questo è un indirizzo secco che butta dentro direttamente qui alla funzione paint di custom shape che mi disegna nero quindi anche se questa è anche un rettangolo l'implementazione del rettangolo l'ottengo solo con una variabile che sia di tipo esplicitamente rettangolo quindi questo è il paint del rettangolo è di tipo ellisse in realtà grazie alla programmazione quindi anche qui è un paint io posso definire dei metodi virtuali quindi posso prendere questo metodo e definirlo virtuale ci mi lascio sopra una v virtuale vuol dire che con una variabile che appartiene a questo tipo quando chiamo questo metodo lui non deve andare dritto qui ma l'indirizzo del metodo da chiamare quindi il metodo effettivo l'implementazione da chiamare dovrà dipendere da qual è la classe a cui appartiene l'oggetto che sta qui quindi uso questa variabile perché contiene valori di questo tipo o di questo tipo di questo tipo ma quando chiamo paint questo metodo è virtuale vuol dire che questo metodo che è uguale al metodo virtuale può fare l'override ovvero può andare a sostituirsi a questo nel codice come si traduce questa cosa vuol dire io prendo questo paint ci aggiungo un virtual questo fa sì che l'indirizzo di questa funzione non sia sempre fissa ma possa essere ridefinita da un discendente ovvero quando è virtuale il mio rettangolo potrebbe dire che di questo metodo tra l'altro vi da anche un warning adesso se ed è che vi dice attenzione che il metodo nel rettangolo il metodo paint nasconde un metodo virtuale dello shape perché questo paint è sostanzialmente un metodo nuovo con lo stesso nome di un metodo che sta nella classe base e di fatto lo nasconde lo elimina lo sostituisce quindi non è la prosecuzione di quella catena vuol dire che ne abbiamo due con lo stesso nome ma se qui scrivo override vuol dire che quando io ho un oggetto di questo tipo memorizzato in una variabile però di questo tipo e chiamo paint siccome paint è virtuale se io qui ho fatto l'override cioè lo scavalcato verrà richiamato questo al posto dell'implementazione base quindi anche qui posso mettere override così mi evita anche un warning qui potrei anche andare a fare il disegno quindi vado qui e gli dico canvas punto ellipse o fill ellipse penso lo riempia spero lo riempia sì perché se no dovrebbe essere l'arco quello che fa e qui gli metto le proprietà ovvero rect ovvero self rect perché ho la proprietà che mi rappresenta l'ellisse chiaramente impostando il brush al color e mettendo qui il self color oppure la proprietà semplicemente color per avere il colore giusto guitar è ancora vuoto però qui al momento scrivo non mi ricordo neanche come si calcola semiasse per semiasse diviso per p no diviso 2 per p greco non mi ricordo non mi ricordo l'area dell'ellisse è un vuoto di memoria guarda me la vado proprio a cercare scusate ma è roba delle elementari ma pi greco a per b ok l'ho vista adesso dove a semiasse e b ok adesso me la ricordo figuraccia clamorosa quindi qui anche questo metodo dovremmo farlo virtuale 2 greco r è il cerchio e qui però l'ellisse è formato quindi quindi ad esempio qui è interessante perché sull'ellisse ad esempio potrei aggiungere i semiassi potrei dirgli potrei fare una sezione private una function che dice semi axis orz lavoriamo sempre l'intero perché facciamo una function che dice semi axis vert di tipo integer potevo fare direttamente le proprietà che facevo prima una property che mi dà questo sono perso io perché dichiarare il metodo open nella classe base se poi ciascuno se vuole inventare specifico perché tu se non lo metti nella classe base non lo puoi invocare adesso te l'ho completo questo e poi lo vediamo direttamente nel codice semi axis orz integer orz ok questa roba serve per calcolare i semi assi come diventa allora quello orizzontale è la larghezza diviso due li faccio interi perché facciamo prima questa è l'altezza diviso due e l'area sarebbe return facciamo un trunk un int lo trasformo in intero perché è mat qui possiamo usare system piace perché uso la funzione matematiche dove c'è il pi greco quindi a per b per pi greco giusto quindi semi assi orizzontale per semi assi verticale vado usare pi greco come costante poi arrotondo tutto invalid type cast si giusto perché devo fare un trunk esatto vabbè non sarà precisissimo ma va benissimo così abbiamo anche il disegno abbiamo anche le aree perché metterlo nello shape base perché se io lo tolgo di qui ok facciamo che qui non ci sia e io ce l'abbia solo nell'elisse ok paint qui mi segnala un errore ma perché sto facendo l'override ma se tolgo l'override non me lo segnala più perché con l'override gli sto dicendo di scavalcare un metodo rimetti l'override che nella classe base non c'è quindi mi da errore ma lasciamo un attimo qui nel rettangolo ce l'ho nell'elisse ce l'ho il problema è che noi qui quando cicliamo facciamo questo ciclo quello che otteniamo è una variabile che appartiene al tipo della classe base quindi paint io non lo posso invocare non posso dire per ogni figura disegna la figura perché la variabile appartiene la mia lista è una lista di figure quindi io posso accedere ai metodi che sono comuni a tutte le figure perché questa è una figura non è io sto trattando ogni figura come figura generica e non come un rettangolo specificatamente o un elisse specificatamente quindi se nella classe base non metto il paint qui non riesco a invocarlo l'unico modo che avrei per invocarlo è scrivere del codice di questo tipo cioè dire che se shape è un si vabbè un un rettangolo allora prendo il mio shape che è generico lo trasformo lo tratto come rettangolo questo andrebbe in errore se è un elisse va in errore ma io prima ho fatto il controllo e a quel punto essendo un controllo essendo un rettangolo se faccio punto vedo paint perché paint il rettangolo ce l'ha analogamente if shape is ellipse shape se è un elisse allora ellipse shape questo devo farlo per forza questa operazione perché questa è una variabile che ha come tipo di riferimento la figura generica quindi se voglio chiamare il paint posso chiamare solo il paint o del rettangolo dell'elisse lo devo andare a selezionare controllando prima se ogni cosa appartiene a quella classe poi dicendo che il valore che c'è qui dentro siccome è in una variabile che appartiene a un tipo generico ma so che è un'elisse lo tratto come ellisse e chiamo un metodo dell'elisse perché ho testato che effettivamente questa chiamata io la possa fare se non faccio questa conversione lui questa chiamata non te la considera safe perché siccome tu usi una variabile che può contenere qualunque figura e questo non è un metodo che sta nella classe base lui non può essere sicuro che questo metodo ci sia se invece è nella classe base tu lo puoi usare comunque perché intanto è nella classe base e qualunque oggetto tu dipassi che appartiene a una classe che deriva da questa siccome non può nascondere nulla di quello che reddita se nella classe base ce l'avrà e a quel punto ti accetta anche il paint il problema qual è che se io il paint lo vado ad aggiungere qui adesso glielo faccio reinserire il complete class potete farlo anche qui così lui lo ha inserito dove l'ha messo qui nel privato no lo metto lo rimetto qui fuori anzi togliamo prima questo quindi se io lo inserisco a questo punto io lo posso invocare senza fare tutta questa roba potrò scrivere una cosa del genere il problema qual è che quando invoco questo paint usando una variabile che appartiene al tipo base lui va a chiamare questo paint in uno specifico mentre io non voglio che lui vada a chiamare questo ho visto che c'è mi vado a bere un goccio d'acqua me ne approfitto ne approfitto per bere poi in realtà è mezzanotte quindi dovremmo anche andare a nanna stavo dicendo ok quindi c'è questo paint quindi a questo punto tutte le classi possono ereditare questo paint ma se uso la variabile chiamo paint chiamo questo e a ogni classe che lui eredita se dichiara un metodo con la stessa firma sta semplicemente io ne avrò semplicemente tre diversi dove uno è nella classe base le classi discendenti lo prendono ma dichiarandone uno con lo stesso nome fondamentalmente tolgono il vecchio e mettono il nuovo ma quando io uso come variabile il tipo di base chiamo sempre la versione del tipo di base questo virtual è quello che crea la magia ovvero dice questo metodo io lo apro esplicitamente a estensioni da parte delle classi discendenti ovvero qui lo metto gli metto un'implementazione ad esempio qui posso andare a mettere tutto ciò che va bene per tutti ad esempio in tutti io vedo che nelle lisse ok nel suo paint ho impostato il colore e poi disegno l'ellisse nel rettangolo ho impostato lo stile solid ok dovrei farlo anche di là imposto il colore e faccio fin rect se la mia figura di base se io dico che ogni figura si disegna col proprio colore uno stile solido e lo fa ogni figura quando io dico ogni vuol dire che deve andare in quella classe base quindi io potrei dire qui che per fare un paint io cosa faccio ho imposto non il nero colore nero ma ho imposto ad esempio il colore della figura imposto lo stile grassetto e poi non vado a riempire un rettangolo perché io non so qual era la presentazione che avrà nella figura però ecco che ho creato un'implementazione che posso ereditare e posso estendere per avere una parte di base comune che io posso estendere prendendo la parte che eredito e aggiungendo qualcosa per spiegarmi peggio cosa faccio quindi questo paint è nella classe base è virtuale vuol dire che io lo posso estendere ce lo posso scavalcare ecco da questo punto di vista vuol dire che quando io vado qui nell'eclipse con questo override vuol dire che anche usando una variabile che appartiene al tipo generico quando chiamo paint siccome paint è marcato come virtuale delf non chiama direttamente questa implementazione di base ma va a vedere di che tipo è questo oggetto e se io ho fatto l'override chiama la versione in override quindi che scavalca quella di base altrimenti chiamerà questa quindi il giochino che farà sarà invece che chiamare questa dire tu chiami paint c'è nella classe base sì però è virtuale quindi vado a vedere se di che tipo è questa variabile a tutti gli effetti perché questa variabile cioè questa variabile come tipo è custom shape ma l'oggetto che c'è dentro non sarà praticamente mai un custom shape sarà un rettangolo o un'ellisse anche perché custom shape vuol dire figura geometrica generica se io chiedo a una persona disegnami una figura geometrica generica lui mi dice lui per disegnare qualcosa mi dirà ok ma cosa ti devo disegnare un rettangolo o un'ellisse quindi la mia figura la mia idea di figura geometrica generica è un'idea astrata che io uso per definire delle caratteristiche comuni a tutte le figure generiche ma se io voglio voglio dire dammi una figura a qualcuno lui mi dirà cosa vuoi cerchi il triangolo o mi dà quella che preferisce oppure mi chiederà quale sarà quindi questa cosa può essere tra l'altro esplicitata ed estremizzata aggiungendo qui alla classe una parola chiave abstract che vuol dire di questa classe io non potrò mai fare la create in realtà posso sarebbe un errore c'è un warning si può trasformare in errore però questo abstract vuol dire che questo fa solo da fattore comune e da tipo che possa segnare una variabile per contenere degli oggetti che apparterranno sicuramente a un discendente di questa classe perché questo è un concetto astratto se io scrivo nel mio codice tcustomshape.create non ha senso cioè io sto creando un oggetto che appartiene a una classe che rappresenta una figura di base ma che cos'è non lo sappiamo che cos'è perché questo è un concetto totalmente astratto con questa parola chiave o che diciamo esplicita questa cosa io potrei mettere anche dei metodi astratti i metodi astratti cosa sono? sono dei metodi che io metto qui nella classe base che metto a fattore comune ma che di cui non posso dare un'implementazione ad esempio la paint mi torna utile per implementarla perché rendendola virtuale la posso estendere a livello base imposta colore e stili in questo modo nel mio ellisse il mio disegno può essere invece che andare a impostare il colore così io posso dire chiamo la paint che è arredito dalla classe base potrei scrivere così oppure potrei scrivere anche semplicemente così posso usare anche questo short end e poi disegno l'ellisse il rettangolo cosa farà? invece che fare tutta sta roba farà chiamo la paint della classe base passandogli il canvas questa che cosa va a fare è l'implementazione che ho ereditato che va a impostare il colore e lo stile e poi disegna il rettangolo cioè in questo modo le cose in comune di disegno tra le varie figure le ho messe in un metodo che sta nella classe base perché tutte si possono disegnare c'è una funzione base di disegno il metodo è virtuale le classi discendenti lo scavalcano e cosa vanno a fare? diciamo che se qui non metto questo vuol dire che questa implementazione sostituisce quella che ho ereditato quindi questo è il metodo che viene richiamato perché fa l'override e questo sostituisce quello che ho ereditato potrei chiamare la funzione che ho ridefinito dopo quindi fare qualcosa prima e poi chiamare quella oppure metterla prima e fare qualcosa dopo oppure sostituire integralmente questo non è un problema quindi questo è l'effetto di queste scritture ciò che avviene lo vediamo qui direttamente nel codice se io vado qui compilo il mio programma metto un breakpoint lì ok ricordate che io vado sempre a creare due rettangoli e un'ellisse ok vado in run al momento il disegno ha già fatto un giro il breakpoint ma non è entrato lì dentro perché non ho figure creo le figure e gli dico invalidate lui deve disegnare quindi sta ciclando le mie tre figure quindi questa è una variabile custom shape che può contenere virtualmente ogni figura qui in base al tipo mi sta facendo vedere tutte le proprietà che sono in comune ad ogni figura ma se io vado qui prendo questa variabile faccio un evaluate e gli chiedo ad esempio class type o class name qual è il suo tipo è un rettangolo shape questo è un rettangolo la variabile è custom shape perché deve contenere tutte le figure ma l'oggetto tutti gli effetti che io ci ho messo dentro è l'oggetto di una classe creata da custom shape e quindi è compatibile ma è un rettangolo c'è questo rettangolo un altro rettangolo nell'ellisse quando chiamo paint paint lo posso scrivere perché nella classe base ce l'ho come abbiamo detto ma è virtuale e nel rettangolo io l'ho scavalcato l'ho ridichiarato e ci ho messo override vuol dire che questo vuol dire che qui quando chiamo paint essendo virtuale non va a chiamare direttamente quello di custom shape ma chiama quello del metodo la versione di rettangolo vede che questo è un rettangolo a tutti gli effetti quindi se io centro dentro mi ritrovo qui nella paint del mio rettangolo la paint del mio rettangolo cosa fa? chiama inerited paint cioè chiama la versione ereditata lui ha ridefinito paint ma vede ancora il metodo che ha ereditata la classe base quindi entrando con quell'inerite doveva richiamare il mio custom shape paint imposta il colore della figura imposta le parti comuni ovviamente non può accedere a nulla che sia specifico del mio rettangolo o del mio ellisse ad esempio i semi assi nel caso dell'ellisse una volta che ha fatto questo io riempio il rettangolo ok altra figura altro rettangolo in questo caso quindi lo disegna questa volta dovrebbe essere un'ellisse quindi chiamando paint l'ellisse fa l'override quindi mi trovo nell'ellisse e nell'ellisse lui disegna col canvas e poi disegna chiama la funzione ereditata e disegna l'ellisse ed ecco tutte tra le figure disegnate a video presenti quindi la paint la può chiamare perché nella classe base c'è ma nel momento in cui se non è virtuale chiama quell'implementazione se è virtuale vuol dire che io in una discendente faccio l'override vuol dire che verrà chiamata quella versione del metodo se l'oggetto è di quel tipo a quel punto io potrò accedere all'implementazione di base e potrò metterci qualcosa questo e questo funziona correttamente a cosa serve il concetto di abstract noi abbiamo trascurato al momento la questione dell'area quindi la questione dell'area io potrei fare allo stesso modo paint è un metodo fortunato perché io ho delle cose che posso rendere comuni a più figure quindi posso metterle qui e quindi mettiamo che un domani io per tutte le figure mi stanchi e voglio usare un altro stile diverso invece che il solid vorrei usare cross ok facciamo questa questa implementazione la cambio in un punto se io lancio il mio programma e disegno eccoli che li abbiamo tutti con lo stile cross perché? perché tutte le classi estendono una classe base tutti aggiungono qualcosa e chiamano l'implementazione di base la quale imposta colore e stile di riempimento se cambio qualcosa in quel punto la sto cambiando per tutti quindi il fattore comune è potente perché se questo fosse un bug se io dico gli ho disegnati così mi sono sbagliato vado in un singolo punto vado nel paint e dico no ma cavolo volevo mettere diagonal cross clear volevo metterlo a tinta unita lo rilancio e a questo punto le figure sono a tinta unita ho corretto in un unico punto una cosa che si riverbera su una marea di tipi magari e se voglio aggiungere un nuovo tipo di figura questo mi fa anche da da aiuto perché io potrei dire aggiungo una unit guardate quanto faccio presto ho il rettangolo scrivo triangle punto pass importo le mie unit che mi servono tipo la base shape ok il triangolo è una figura quindi t triangle shape è una classe che era edita da t t custom custom shape secondo me c'è un errore da qualche parte di cui non mi sono accorto no si ok ci sono dei warning quindi a questo punto ho la mia figura la cosa carina è che quando io write da custom shape voglio fare l'override posso fare contro spazio e andarmi a scegliere questi metodi tipo scelgo paint vedete che mi propone già paint canvas override get area override quindi contro spazio paint invio e lui mi aggiunge la sezione public perché il metodo si trovava lì e paint canvas override lo stesso potrei farlo per get area quindi posso già selezionare in automatico quello che io voglio estendere adesso qui non so perché la formatazione di questa cosa che un tempo funzionava adesso è problematica faccio ctrl shift c e sono pronto a disegnare qui adesso ci scriverò zero solo perché non ho vabbè questo lo so base per l'altezza diviso due quindi with non so perché non mi completi in automatico forse mi manca qualcosa diviso due paint quindi chiamo inerited paint canvas oppure potrei scrivere anche solo inerited se voglio fare la scorciatoia e qui supponiamo di farlo isoscele scriverò canvas punto non capisco perché è completamente automatico ah ok qui giustamente in questo caso ha ragione ci manca la unit del canvas però non me lo dava ok adesso va bene e qui potrei fare un polyfill polygon un poligono riempito con un array però non ci vuole il no probabilmente il polygon va bene polyline è quello che fa sulle righe ci vogliono i punti quindi sarà l'angolo in alto e il punto in alto come lo vuoi come array di punti ok quindi ti passo un array scrivo così che è più comodo quindi vado a creare un point t-point dove era in system types non mi ricordo system types ok ci manca anche questo qui ci vorrebbe allora t-point create vuole due coordinate quindi abbiamo il punto in basso si trova a zero come x e all'altezza come posizione poi c'è il punto in basso a destra è uguale alla larghezza e all'altezza e il vertice in alto è a metà quindi vuol dire che dobbiamo creare un punto che abbia come y0 ma come x la larghezza diviso 2 e così dovrebbe avvenirci fuori un triangolo a questo punto ho il triangolo quindi non devo andare a toccare nella main non devo toccare qualcosa che cicla delle forme e lo disegna ogni forma verrà disegnata non più usare origin beh lo posso usare in realtà perché lo posso intendere come l'origine del rettangolo in cui è scritto il triangolo di social cioè semplifichiamo da questo punto di vista però ecco che questa cosa mi consente di aggiungere funzionalità non andando a toccare del codice esistente ma aggiungendone di nuovo per una nuova classe un sistema che è estensibile con cui posso aggiungere delle implementazioni senza andare a toccare il codice che ho già scritto cioè se voglio disegnare qui io di fatto vado a disegnare le forme ma non devo toccare questo codice per disegnare anche il triangolo mi basta qui a un certo punto creare un triangolo e lui disegnerà se stesso tranquillamente implementation faccio vado a fare un l triangle di tipo t triangle shape lo creo qui trovo le solite proprietà quindi qui ci metto facciamo 100 tanto poi si vede quindi se non sono sovrapposte y200 vado a fare le dimensioni le metto da solo di default quindi basta lo vado ad aggiungere mi shape faccio add e aggiungo il triangolo quindi qui il codice lo tocco perché lo devo andare a modificare ma immaginiamo che siano dati che provengono dall'esterno cioè io fondamentalmente nel mio sistema ho esteso l'implementazione aggiungendo una nuova casistica non so come verrà visualizzato se tutto è corretto vabbè sempre blu perché non gli ho cambiato il colore ecco qui potrei ad esempio prevedere un default diverso per ogni forma potrei fare che il mio create è virtuale e nell'override ogni forma mette un colore diverso come default in modo che io non debba indicarlo qui cioè dopo tutte le le varie implicazioni sono questo lo mettiamo yellow yellow submarine così lo si vede bene sono un po' tutti ammassati però ok ci sta comunque vedete che non ho bisogno di riempire di impostare il colore perché qui se l'ho detto chiama il metodo ereditato che fa questa roba e fa il poligono e lui me l'ha disegnato questo getarea è un po' diverso da paint perché abbiamo un problema giusto per chiudere il discorso che qui in custom shape l'abbiamo dovuto definire virtuale perché ogni figura qual è la cosa bella che noi potremmo stampare l'area di ogni figura ad esempio se qui nel main potremmo fare una roba di questo tipo prendo un memo quindi un campo giusto giusto solo per scriverci dentro dopo che ho fatto schiacciato il pulsante ok quindi potremmo dire qui facciamo un invalidate ok però potrei dire facciamo un ho sbagliato il template for in var l shape in shapes cioè usare un metodo virtuale mi consente di dire a prescindere dalla figura io calcolo per ogni figura l'area e lo vado a visualizzare quindi ad esempio gli dico memo1 lines aggiungo una riga e qui dentro ci scrivo format metto una stringa con il tipo della figura due punti e il valore dell'area quindi gli devo passare un array di valori dove il primo è l l shape facciamo class name che tra l'altro è un metodo che è reddito da t object l shape getarea perché di nuovo posso invocare getarea perché l'ho messo nella classe base ma ogni figura lo implementerà a suo modo quindi è virtuale e nelle varie triangle shape faccio getarea qui faccio getarea ogni figura lo implemento in modo diverso quindi qui avrò il vantaggio che quando chiamo questo getarea vado nell'implementazione specifica della figura qual è il problema diciamo un po' formale da questo punto di vista ma non aspetta che svuoto il memo prima di scrivere qui poi begin and ma me li posso anche evitare intanto vediamo se funziona ok quindi me li disegna e l'area viene zero per tutti quindi non è il massimo però potrebbe esserci un motivo serio infatti avevo ancora dei warning perché siccome io li ho definiti in rettangolo e lisse ma non ci ho messo override probabilmente esatto vuol dire che lisse e rettangolo hanno un metodo nuovo che ha incidentalmente un nome uguale a quello ereditato da shape ma non estendono la catena ci devo mettere override altrimenti il giochino non funziona cioè la catena non prosegue è solo un nuovo metodo che possiede lo stesso nome di un metodo che è reddito che è virtuale qui mi dice perché mi da questo vuone perché se la mia intenzione è scavalcarlo devo stare attento perché io sto prendendo un metodo virtuale ne sto creando uno nuovo con lo stesso nome e quindi oltre a non istituire questa catena quando chiamerò con quella variabile con quel tipo accederò a quello del triangolo del rettangolo ma se uso il valore della classe base una variabile di tipo della classe base non funziona proprio perché manca l'override cioè manca la dichiarazione del fatto che io estendo quella implementazione se ora clicco vedo delle aree supponiamo che siano corrette poi possiamo andarle a vedere e qui ho proprio sostituito l'implementazione di base cioè non ho messo da nessuna parte un inherited getarea perché quest'inherited getarea cioè l'implementazione a custom shape non mi serve fondamentalmente a nulla non mi serve a nulla perché perché ogni figura calcola al proprio modo a meno chi non abbia un coefficiente da condividere getarea ha senso che sia qui ma ha senso che sia virtuale perché ogni figura ha un'area che si può calcolare quindi il metodo deve stare qui cioè quando voi enunciate questa cosa a voce alta vuol dire che se di ogni figura posso calcolare l'area quel metodo deve stare qui deve essere virtuale perché ogni figura specifica ha un suo modo però non ha senso che io qui lo implementi anche perché se qualcuno tipo qui nel triangolo se io qui questo non lo implemento lo posso fare quale versione viene chiamata viene chiamata quella di custom shape magari io mi scordo e alla fine mi da zero come errore perché non ho chiamato non ho messo l'implementazione non l'ho scavalcata quindi viene chiamata l'implementazione di base io in realtà qui dovrei essere più rafforzativo cioè dovrei dire nella classe base metto il getarea lo metto virtuale in quanto tutte le figure hanno questa funzione quindi deve essere qui deve essere virtuale in quanto ogni figura la può personalizzare ma qui non posso mettere l'implementazione perché zero è un valore valido quindi meno uno sarebbe un valore che non ha senso per l'area e quindi non ha neanche senso restituirlo zero non è valido perché già dire che un'area vale zero è come dirlo calcolato e vale zero ma se io ti dico calcomi l'area di una figura se dite a qualcuno questa cosa anche se è vero che ogni figura ha la possibilità di calcolare l'area questa persona vi dirà di quale figura e quindi è una cosa che vi dà un'indicazione che comunque dovete renderlo virtuale ma se vi chiede questo è perché non vi sa dire qual è l'area fino a quando non saprà quale è la figura cioè vuol dire che qui l'implementazione è sbagliata cioè non il metodo deve stare qui ma non dobbiamo metterlo in implementazione perché a questo livello finché non sappiamo che figura è noi non possiamo dare nessun valore non possiamo fare il calcolo quindi questo è un placeholder ma in realtà sarebbe sbagliato anche perché se qualcuno si dimentica di fare l'override mi viene fuori un valore che è corretto cioè quindi qui come minimo dovrei tirare su un errore e dirgli ehi devi implementare questo metodo formalmente c'è un modo di dire questo ovvero tolgo l'implementazione mi dà questo punto errore perché mi dice non hai messo l'implementazione ma qui ci aggiungo questa clausola abstract che vuol dire questo metodo c'è è virtuale ma è astratto cioè non contiene un'implementazione questo vuol dire che per qualunque classe ottengo un warning che per me dovrebbe diventare un errore mi sta dando questo errore nel main mi sta dicendo che in un certo punto sto costruendo un'istanza del triangolo di una classe che contiene un metodo astratto getarea perché perché questa classe è ereditato getarea getarea però è astratto cioè non ha un corpo se io in triangle shape non faccio l'override vuol dire che quando chiamerò getarea non avrò a disposizione un metodo da invocare cioè io ho creato il triangolo chiamo getarea non ho ridefinito getarea andrò a chiamare la versione di custom shape ma la versione di custom shape è questo qui è astratto non c'è neanche il corpo quindi che cosa succede io il mio programma lo posso lanciare ma quando faccio quando cerco di calcolare l'area ottengo un bel abstract error questo viene istituito nel momento in cui faccio il getarea del triangolo perché non ha trovato l'indirizzo per il metodo quindi questo warning qui in realtà dovrebbe diventare un errore che poi l'errore non è qui qui mi sta solo avvisando guarda che stai creando un oggetto che è un oggetto di una classe la quale è astratta perché non ha implementato tutti i metodi quindi qui generalmente cosa si fa o si dichiara anche questa astratta che ci può stare perché io potrei creare una classe astratta credito da un'altra classe astratta perché voglio stratificare una gerarchia in realtà qui la cosa che devo fare è aggiungerci l'implementazione l'implementazione che manca la reincollo qui tanto se faccio ctrl shift c qui mi aggiunge lui la dichiarazione eccola qua in public possibilmente e devo mettere anche l'override perché altrimenti e a questo punto il warning non c'è più e l'area funziona quindi quel warning dovrebbe diventare sempre un errore perché rischio di chiamare dei metodi non implementati e questa scrittura esplicita questo abstract che noi non possiamo scrivere da nessuna parte custom shape create quindi se io qui lo scrivessi non avrebbe senso ok e lui mi darebbe presumibilmente un warning attento che stai creando un'istanza che contiene un metodo astratto o più metodi astratti oppure astratta quindi questo abstract è un modo di dire questo ce l'hanno tutte le classiche dentro da questa possono definire il comportamento a questo livello io non posso definire come questa questa get area non posso farlo non posso calcolarlo perché dovrei sapere qual è la figura quindi la figura farà l'override questo diciamo che se trasformati in errore il warning di prima diventa una forzatura cioè vi forza a dire che se voi ritrate da questa classe o create una classe astratta oppure ogni metodo che ha deve essere bisogna fare l'override altrimenti rischiate di incappare in quell'abstaterror quindi quello vi fa un po' da guida nel definire quando voi qui fate un un control space adesso non vengono elencati perché ho già fatto l'override quindi non compare nell'elenco ma quei metodi astratti andrebbero tutti implementati altrimenti si rischia diciamo che qui voi dite che una classe discendente da questa deve implementare questo questo metodo virtuale per forza questa è la è la clausola e qui in paint mi viene utile avere un'implementazione di base quindi solo virtuale qui è anche astratto perché non posso calcolare l'area e come dire non so faccio una gerarchia oggetti faccio esseri viventi esseri viventi poi faccio l'uomo poi faccio gli animali anche gli animali sono esseri viventi poi qui l'uomo magari è specifico quindi l'uomo può mangiare l'animale mangia il gatto che è eredita da animale mangia anche lui però mangia perché perché tutti gli animali mangiano ma gli animali mangiano perché sono esseri viventi tutti gli esseri viventi mangiano quindi il metodo verrà definito qui ma sarà astratto perché se io ti dico dimmi come mangia un essere vivente tu mi dici di quale essere vivente e io ti posso dire un uomo ok l'uomo ingerisce digerisce se io ti dico non di un essere vivente ma di un animale vi dirà quali animali quindi anche questa classe è di nuovo astratta questa è astratta questa è concreta questa è astratta questa è una classe astratta che deriva da una classe astratta questo che il gatto è concreto quindi questo definisce il metodo mangia l'animale eredita da questo e non definirà nulla qui perché non ha nulla da implementare però semplicemente eredita da qui e quindi se lo porta dietro e il gatto che eredita da ha anche mangia perché mangia lo ha preso da qui però qui faremo l'override e qui diremo che il gatto mangia i crocchini e quindi qui potremmo mettere l'implementazione quindi qui sarà abstract qui sarà non sarà presente o ci saranno magari l'animale mangia però ha delle caratteristiche ha una sua classificazione quindi la classificazione la metto qui perché tutti gli esseri viventi non ce l'hanno gli animali sì quindi anche i gatti ma gli umani no quindi ecco che io inizio a dividere le varie cose a seconda del fatto che chi le possieda le possiede in virtù del fatto che siano cose sue specializzate o siano cose comuni a più classi e quindi lo metto a fattore comune se metto a due fattori comuni la stessa cosa vuol dire che posso creare un ulteriore raggruppamento di cui alcuni posso mettere l'implementazione e in altri la posso andare a estendere questo è in soldoni il principio della programmazione oggetti quindi abbiamo visto l'incapsulazione cioè i campi privati fondamentalmente l'ereditarietà che è quella che vediamo proprio in questo schema e il polimorfismo che vuol dire che io creando una variabile di questo tipo quando chiamerò il metodo mangia che è astratto ma è anche virtuale non chiamerò direttamente questo metodo ma il comportamento dell'oggetto che appartiene che comunque è compatibile con questo tipo ma sarà una classe concreta quindi ho un gatto una persona verrà richiamata quell'implementazione di mangia specifica di quella classe e quindi qui ha una variabile ma quando chiamo mangia il comportamento può essere una classe che è eredita da questa qui può essere modificato a seconda del tipo e quindi si comporta in tanti modi diversi questo è il polimorfismo quindi nomi complicati soprattutto polimorfismo per definire cose poi relativamente semplici una volta che uno ci ha acquisito insomma familiarità ecco da questo punto di vista dovremmo vedere anche qualcosa dei metodi statici ma siccome abbiamo fatto una certa ora abbastanza esagerata quindi questo warning assolutamente da evitare l'ho già rimosso bravo quindi al momento non ho warning il mio programma disegna quindi se qui carico questi dati da un file e li vado a disegnare ogni figura mi basta aggiungere la classe della figura per estendere il mio sistema e avere una figura in più questo è il grande vantaggio di avere la programmazione di oggetti al proprio servizio di fatto quindi in Delfi è abbastanza comodo perché il linguaggio è abbastanza chiaro cioè qui possiamo possiamo togliere tutto quello che non serve anche qui li ho creati così ma ad esempio avremmo potuto avere magari in una futura lezione mettiamo che con una checkbox con una lista posso scegliere se creare un rettangolo o un ellisse posso scegliere se quindi come configurare la posizione magari con delle trackbar con dei controlli potrei fare un'applicazione dove io scelgo i parametri la figura clicco e l'aggiungo e a quel punto la vedo e vedo l'area ne scelgo un'altra clicco e l'aggiungo e magari mentre il programma gira posso prendere una e eliminarla posso fare tutte queste operazioni nel momento in cui il mio sistema deve supportare una figura in più che non c'era a quel punto posso aggiungere una nuova classe e senza toccare il codice assistente il resto continua a funzionare chiaramente questo utilizzando anche un altro po' di espedienti ma questi eventualmente li vedremo in un approfondimento successivo però grossomodo i capi saldi della programmazione oggetti direi che più o meno li abbiamo sviscerati mi mi si è fatta una certa qua ragazzi non me ne ero neanche accorto perché andavo andavo bello bello spedito quindi già normalmente persone a cui fare dei raid non ce ne sono figuriamoci a quest'ora c'è gente che gioca sarà l'unico che fa programmazione a quest'ora però direi di sì direi di sì direi proprio di sì quindi spero adesso penso che in alcuni casi aiuto c'è il mio c'è il mio audio in alcuni casi ci siamo chiaramente un po' incriccati con le parole però ho mezza c che inscia l'ho scoperto grazie interessante prego adesso chiaramente ci sarebbero molte altre cose da dire dal punto di vista del della programmazione oggetti soprattutto il linguaggio evoluti dove chiaramente ci sono altre come dire altre eventualità perché abbiamo attributi abbiamo i linguaggi sono arricchiti di altre caratteristiche quindi da quel punto di vista niente nessuno che sviluppa no c'è qualcuno che sviluppa sta guardando è iniziato adesso forse chiaramente avevamo già raidato quindi vabbè andiamo a fare un raid giusto per concludere niente la prossima settimana può essere che non sarò live però eventualmente io ho i vari canali ero la una migliore per sviluppare esatto esattamente soprattutto per lavoro c'è volendo un canale telegram c'è volendo un canale youtube c'è la home page dove ci sono poi tutti i link quindi anche calendario dove metto di solito le live che faccio anche se oggi non l'avevo messa però vabbè tutto sommato diciamo mi sono dimenticato c'avevo troppo da fare oggi però non volevo scammare la live quindi come dire possiamo potete riferirvi a questi canali per rimanere aggiornate oppure qua su twitch c'è la programmazione quindi c'è qui tenerla aggiornata quindi forse la prossima settimana prendo qualche giorno tra l'altro sarà anche Pasqua ne approfitto anche se non è ancora il momento per cioè ma ancora qualche giorno per fare gli auguri di buona Pasqua quindi ci vediamo in una prossima live rimanete faccio il ride a uno sviluppatore anche questo notturno a quanto pare però devo essere sicuro di scrivere bene il nick perché quindi torniamo a debagare auguri esatto che sviluppa in javascript quindi molto esperto in typescript in angular in svelte quindi ve lo consiglio quindi rimanete fatto un saluto anche veloce grazie di nuovo a tutti quelli che sono stati in chat che hanno partecipato dato una mano suggerito gli errori voi tra l'altro sono un po' ok così guardo guardo dritto almeno che non sembro che sto guardando per terra auguri a tutti e alla prossima live grazie mille e buonanotte buonanotte a tutti ciao alla prossima grazie mille Grazie a tutti